musica cosa vuol dire? porco olivio ma che cazzo lo sacci? ma porco olivio ma porco olivio musica 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 Marco Livio Marco Livio, via via Marco Livio 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 PANGULA LIBIO The dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. E' un uomo per Dio, non è un uomo, non è un uomo, non è il mondo di Gokhias. E' un uomo di Gokhias, non è un uomo di Gokhias. E' un uomo di Gokhias. PORCO LIBIO たれば 夜だらけのその往り я 拾わる心震える手は掴みたいものがある それだけさ ヨルのにおいに それにらんでも Stai gli schismi Passare più avanti Solo un solo Solo un solo Ma solo un solo E' solo un solo E' molto forte E tu non ti anima E tu non ti senti E io E tu non mi dettai Angulo al Libio Dov'ho fatto Non mi sento E non mi sento E tu non mi sento E tu non ti sento E tu non mi senti E tu non mi senti E tu non mi senti E tu non mi sento E tu non mi senti Grazie per la visione! 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 Buonasera! Grazie per la visione! 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 Cosa è successo? Non lo so, non lo so! Che è successo? Pensavo fosse tipo una cosa... Ah, Discord che non funziona! Strano! Che bello Discord! Vi faccio vedere da un gioco! È già iniziato! Allora vi faccio vedere la grafica, così capite meglio, perché la spiegazione sembra difficile, ma in realtà è molto semplice come gioco! Io mi fido di loro! Sì, vabbè, loro giocano a D&D! Bavaro Simulator! Eh, certo! Non è che sarà un lascia passare, però... Esatto! Giocano a D&D! Quindi cosa? No, no, no! Ci sono delle cose simili! Ci sono due tipi di persone, Simone! Quelli che hanno letto un regolamento e quelli che non hanno mai letto un regolamento! Visto che Lelio ricade nella seconda, cioè voi state un passo avanti! Ah, ecco! Io ho imparato giocando! Eh, proprio così, capito? Alla vecchia maniera! La vecchia maniera! Potevi chiedermela la foto! Ma no, vabbè, è bello così! Grazie! Guarda che ti chiedo la foto, mo! Ho preso due immagini così, cioè... Bravo! Vedi, Simone è di bala! È vero! È di bala! Aspetta, io sto vedendo una mappa! Sì! Mamma mia, raga! Cos'è questa? Piano piano capisci tutto! Allora, spieghiamo le regole del gioco! Voi due vi affronterete in quello che ormai si chiama Livio's Adventure, anche se Livio non vuole che si chiami così! Eh, perché non lo so, mi sembra troppo autoreferenziale! Va bene, va bene! E diciamo che è una... Ma con due c'è quello che chiamare Polyquiz Show! Oh, te te sei chiamato Magic Quiz Show, sei ancora meglio! L'hai copiato! No, esatto! La mia è una sfida! No, no, no! La mia è una sfida al sistema! No, è diverso! Se non ci fosse stato un Polyquiz Show io non l'avrei mai fatto! Maggi Quiz Show! Esatto! Io l'ho fatto con un intento per io sfidarlo! Vabbè! Comunque sia, comunque sia, è una specie di mini GDR, diciamo, ok? Inizierete la vostra avventura in uno dei due pallini blu che vedete, uno in alto a sinistra, uno in alto a destra e ogni turno voi avrete due azioni da fare, di cui una sarà muovervi obbligatoriamente di un pallino e la seconda sarà scelta tra muovermi una seconda volta oppure interagire con i personaggi se ci arrivate sopra. Due azioni come a D&D, movimento, attacco. Sì, sì, sì. Ok, interagire con i personaggi ma in che senso? E' interagire che vuol dire? Allora, quando voi interagite con un personaggio possono succedere varie cose. potreste doverlo sfidare per conquistare, diciamo, i suoi servigi. E' come i Pokémon, dovete conquistare, dovete fare la vostra squadra. Dovete creare la vostra squadra, ok? Ok. Vabbè, scusate, ma ragazzi, voi avete mai giocato a Butokai Tenkaichi il 3? Conoscete il gioco? No, vabbè, basta conoscerlo. Vabbè, non serve a niente. Ammetto che amo Dragon Ball ma non gioco a Butokai Tenkaichi. Vabbè, vabbè, ma non serve. Ok. Non serve. Voi dovete creare questa squadra di cinque personaggi. Inizierete con uno starter che sceglierete tra tre. Adesso ve lo farà vedere poi Livio. E gli altri personaggi invece li dovrete acquistare, conquistare durante il gioco. Avranno magari delle quest, delle cose eccetera. Alcuno dovete rispettare delle dinamiche. Altre volte magari c'è una domanda a cui dovete rispondere. Altre volte dovete batterli in uno scontro e così. Allora, lo scontro come si fa? Se un personaggio vi sfida a fare uno scontro, parte computer contro computer a Butokai Tenkaichi. Voi dovete fare un Tifa. Ok. Ah, ma figata. Però attenzione, cioè, io già mi sto triggerando perché non vedo il mio personaggio preferito. Che sarebbe? Cicchiazza. Botoro di Anterrago. Master Roshi. Ah. Master Roshi. Allora, le mappe, perché sono una persona seria, le cambio di settimana in settimana. Eh, quella sbagliata. Me lo potevi dire. Eh, c'era un'altra volta. Vabbè, F dai. Eh, detto questo, allora, quando avrete una squadra da cinque personaggi potrete continuare a interagire con un altro personaggio per sostituirne uno che avete in squadra se non vi piace. Ok? Quindi, un personaggio potrà essere sostituito in seguito. Non potete mai sostituire lo starter con cui partite. Eh, attenzione, perché il finale del gioco avviene o quando entrambi avete completato tutta la vostra squadra e quindi vi scontrate nella battaglia finale. Sempre in uno scontro Budoket and Kaiji con più del contro con più. Esatto, voi dovete fare, se siete il coach del vostro team. Eh, oppure se uno dei due termina il movimento nella casella dell'altro. Ok. Quindi vi incontrate sulla mappa. Quindi, attenzione, perché se uno dei due comincia ad avere un vantaggio numerico di personaggi, può anche optare per la caccia. Eh, e quindi andare a prendere l'altro prima che si faccia anche lui la squadra. Ehm... Poi ci sono delle strade, vedete, le strade sono tutte rosse, alcune sono bianche. quelle bianche vuol dire che per passarci attraverso dovete interagire col personaggio prima e batterlo nella sua sfida. Ok. Esatto, cioè ad esempio qua in alto c'è... Vedo facce perplesse, guardate che è iper intuitivo, poi me ne accorgete giocando. Sì, è una cazzatina. Però sto ora raccogliendo le memorie sui nomi dei personaggi. Vabbè, io considero che alcuni non sono manco canonici, quindi non sono degni di essere ricordati. Diglielo! Quanta violenza! Tranne i garlic junior. Allora, secondo me è una di quelle cose che quando inizi capisci come funziona. Io ancora ci ho capito poco, però voglio startare perché sono molto curioso. Esatto. Allora, adesso potrete scegliere tra tre personaggi starter. Ognuno ha un'abilità. Aspetta, ma tu hai messo personaggi che... Maggi che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Perché l'hanno scritto, perché il no, perché si sono accorti che hai messo personaggi che non sono nel giro. Oddio, incredibile! Vabbè, veramente, va pazzesco. Eh, ma loro non lo sanno. Eh, ma ci sono dei personaggi che non stanno in Budokai Tenkai C3. Eh, e quindi vuol dire che se ci interagite vi daranno una quest. No, non è una mod, non è una mod. Non è una mod. Vi faranno fare qualcosa di particolare. Vedi, la gente pensa alla vostra moda. Ma adesso sono i personaggi di Super. Quelli sono... Eh, infatti, ok, li vedo che ci sono... Beh, non solo, tipo Recaio mica c'è. Ok, è Recaio. Eh... Recaio non... Super è Recaio. Non c'è nel gioco, quindi sicuramente sarà un bonus o un qualcosa. Immaginavo che il pesce oracolo non ci fosse. L'avete un po' dura, però ok. Eh... Ok, quindi... Adesso scegliere dei vostri starter. Ogni starter ha un potere particolare. Di cui avrete due utilizzi. Qua ci sono i pallini con gli utilizzi. Quando volete nel vostro turno lo potete usare. Quando non avete più utilizzi, va attaccate. Eh... Va bene, allora. La prima cosa che dovete fare, dovete mettervi d'accordo. Oppure ve la giocate a sasso carta forbice, non lo so. E se scegliere... Uno dei due deve scegliere se partire a destra o a sinistra e l'altro inizia. Palla o campo. Ma io... Ma guarda, io mi piglio la destra, ti va bene? Eh, lo sapevo, stavo per dire sempre a destra. Che cazzo. Va bene, ok, dai. Ok. Inizia Simone. Vabbè, ma fai il sinistroide, dai. No, no, il sinistroide, dai. Dai. Allora, quindi... Rob parte da qui e Simone parte da qui. E poi sinistra-destra dipende dai punti di vista. Ma sì, infatti. Ma sì, infatti. È vero. È perché... Non so... Ma perché il Discord è specchiato? Voi lo vedete specchiato? No, io lo vedo giusto. No, no, lo vedo giusto. Lo vedo giusto. Va bene, va bene. Allora. Starter di... Vediamo, aspetta. Ok, starter di destra, quindi Rob. Ah, le trasformazioni. Cioè tu c'hai Trunks, C16 e io vedo Ghiaccia. Eh, ma porco tu è. Vabbè, ma no, ce ne è belle che te dai. Ma dai, ma è come giocare a Dark Souls con Joypad al contrario. Vabbè. Eh, ma non crede, non crede. Non si sa mai. Comunque tu li devi battere alcuni. Esatto. Quindi se parti subito contro un tizio forte ti spacca alcuno. Ah, li devo... Ah, ok, ok, ok. E gli starter invece? Eccoci. Allora, questi sono gli starter di Rob. Meraviglioso. Madonna che se ne hai tirato. Allora, c'hai Zarborn. Due volte a partita puoi muoverti di quattro caselle invece che massimo di due. Ok. Perfino di puttana di Dodorian. Esatto. Dodoria puoi risfidare un pg se perdi. Sì. Due volte a partita. Invece Riff, due volte a partita puoi bloccare l'avversario per un turno. Gli fai saltare al turno. Addio, Tenzin. Non due turni consecutivi. Ok. Io ti direi... Aspè, 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 Rob. Ok, vai, vai. Se Zarborn si trasforma te lo accolli trasformato. Ah, no, è vero. Se si trasformano durante gli incontri rimangono trasformati. Quindi se avete Goku e in un incontro si trasforma vi rimane trasformato. Sì, è come le evoluzioni. Puoi farli evolvere in gioco per averli maxati quando c'è la sfida finale. E gli scimmioni sono un po' una merda, ve lo dico. Non è vero. Sì, sono una merda. Ma allora, io, per via del movimento, mi interessava molto Zarborn, in effetti. È bellino, Zarborn, eh. Zarborn si può dire che è brutto. Andrei con Zarborn io, sì, dai. Zarborn mi piace. Ok, allora Rob si prende Zarborn. Perfetto. Simone! Vai. Mamma mia! Allora, i poteri sono gli stessi. No, non è vero. Non è vero? Perché Blue, il GE Blue, una volta in tutta la partita, prendi un PG senza dover fare lo scontro. Ah, la scontro. Un PG qualsiasi? Un PG qualsiasi. Un PG qualsiasi. Però ci devi stare sopra. Eh certo. Ok. Diventa mio? Esatto, esatto. Ne puoi rubare uno qualsiasi. Ovviamente personaggi che non... Eh, non... Cioè, non i personaggi di super, ecco. Eh, vabbè, ci vediamo sta nel gioco. Però è difficile non scegliere Vegeta, cazzo. Eh, sì. Eh, lo so, però... Aspetta, spiegami un po' le ability. Allora, due volte in tutta la partita puoi risfidare un personaggio. Sì, quindi vuol dire che se perdi lo scontro puoi... Il turno dopo puoi risfidarlo, altrimenti non lo potresti più prendere normalmente. Esatto. Ok, questo posso fare due volte in tutta la partita, mentre... Eh... Ma si chiama lei, mi ricordo. Lei... Oddio, manco io me lo ricordo. Ma lei non era... Faccia parte della cricca di Vegeta, lei. Lei è una Saiyan, perché non è... Non è manco canonica. Ma è una roba non canonica. Non è questa. Ma hai visto una Saiyan con scaldamuscoli. C'è ancora la dinamica delle fusioni, ti chiedono lì? Sì. Allora, se prendete, ad esempio... Ma di Bardak, vero. Se prendete Goten e Trunks, potete fonderli. E poi avrete Gotenks... Eh... Eh... Fuso, diciamo. Va lordo. Dai... Eh... Cazzo, sono indeciso tra Blu e Vegeta. Allora, Blu, sappi che poi si molto devi accollar per tutta la vita, ed è un po' una sega. Però... Eh, ma... Però poi è molto forte. Finita la serata, te lo porti a casa. Mi piacciono i personaggi sottovalutati, però Vegeta è troppo, troppo. Quindi vado su Principe dei Saiyans. Vai. Ok. Ok. Calcola che è Vegeta che non si trasforma questo. Si trasforma solo in scimmione. Vabbè, sì. È quello dell'inizio. È quello dell'inizio. L'originale. Ah, ok. Va bene. Sei ancora convinto? Eh, me l'hai detto quando l'avevo già scelto. Non ho mai fatto... No, no, no. Tu non lo conosci. No, no, no. Ma Vegeta, Vegeta, mi piace anche Slowbro in Me. Va Vegeta ci piace. Perfetto. Allora... Quindi, dato che ha scelto Rob... Inizia a muoversi Simone. Esatto. Dai. Quindi, adesso, al primo turno, ovviamente, farai un doppio movimento, perché a uno di distanza non c'è niente. Quindi, scegli di andare a destra o a sinistra, innanzitutto. Allora... Sto valutando In base un po' a quello che vedo Quindi io Mi devi ricordare I primi turni che faccio Devo battere i personaggi Che incontro Interagire con loro Devi fare l'interazione Cioè ci devi andare sopra E interagire con quel personaggio Che può chiederti una quest Ti può dare dei bonus Oppure ti può sfidare Eh cazzo però a destra vedo un sacco di roba interessante Vado a destra Ma che c'hai Tarls lì a destra C'ho Bardak No mi pare che è Bardak No quello a destra è Tarls È Turles Il fratello gemello Ah si 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 me lo ricordo dell'albero Quello maledetto lì Eh vabbè Allora No e allora posso andare a destra Si fammi pensare Vado prima a sinistra dai Dove vai da Krilin o da Yamcha No vado da Krilin Ok Quindi uno e due Perfetto E sia mai Yamcha che schifo No ma a me piace Yamcha come personaggio Però Krilin ne lo preferisco Ok Allora Quanti movimenti ho? Due? Uno? Fino a due Fino a due Puoi fare o movimento e interazione O due movimenti Allora vado No vado A sinistra Praticamente sotto C-17 Ok perfetto Ok Adesso Quante volte sono già morto Fino alla fine di Zeta E devi rispondere alla domanda Se la rispondi giusta Lo prendi Ma è morto due volte No Fermi tutti Allora Perché contro Boo Era stato Assorbito Scusa Scusa Simone Posso fare una domanda Sì Perché non so se conta come morte Non mi ricordo se contava come una morte Quella di Quella di Boo Era stato mangiato Porca troia No niente rispetto per Krilin Vabbè Lacciati che ti frega Ti dico due Perché non sono sicuro sulla terza Quindi Al dubbio Ho un dubbio Vado su due Probabile che ho sbagliato però E infatti Ho sbagliato Tre volte L'ammassano tutti L'ammassano tutti Non è che ti sei perso Un personaggio incredibile Però è sempre Krilin Ma in realtà Mi sarebbe piaciuto Avere le squadre Quindi se azzecavo l'interazione Diventava mio Esatto Esatto Bella cazzo Ok Puoi muoverti adesso Poi c'è ancora un movimento O ritorni su o vai giù Guarda Vado giù Ok E Metal Cooler E il padre di Freezer Più vabbè Il vecchio matto Tutta la famiglia Vado sul Il padre di Freezer Adesso Adesso tocca Re Cooler Re Cold Re Cold Ma io me la rischio Con C-17 Dai Con C-17 Dai vediamo Eh parte uno scontro qui Dai eh Minchia Corgato di botte Eh te fa male Mi sa Non lo sa Non è vero Propositivo Allora Allora Quindi tu c'hai Zarbon Allora Ricordiamo che Anche se perdi Comunque se Zarbon si trasforma Te lo tieni Te lo tieni trasformato C'hai il Zarbon Versione Carogna Esatto C'hai lo Zarbon Che non piace manca a Zarbon Esatto Esatto Manca a se stesso Ah se lo prendi Comunque è tanta roba Perché C-17 È molto forte Ma il C-17 è normale Non è super 17 No Ok Va bene Va bene Dai Dai Vediamo un po' Casuale Ok Ecco Perfetto Dai vediamo sto spettacolino Sì Mo te è semplicemente Gufa Ma non serve Rob C'ha abbastanza sfiga Sì Io già sono sfigato di mio Ti puoi rischi di fare meno per meno più Quindi rimando neutrale Capace che Zarbon Mi ciampate e muore Perché si rompe lo sole il collo Eh una partenza un po' così Dai No no Sta là Sta là Sta là Rob Sta là Ti preoccupa Bravo Rob Tre barre di vita a testa Alcuni ne hanno due però E alcuni quattro Allora sì Mi piace Tipo la scommessa lì Dei corse dei cavalli Esatto Sì sì Fatta la con i soldi Sì ma questo gioco infatti Diciamo Istica la ludopatia Sì Ma è bellissimo Sembra una lotta lì Di Lello di Bari Contro il giornalismo Dovesse proporre il format Alla SNAI Secondo me Ci starebbe sul sacco Sì ma infatti Che cambia tra una partita di pallone e questo Niente Anzi Questo è forse Bello Eh che qua E non li puoi corrompe qua Aia Aia Eh È vero È vero Assezione Piccolo Lampo fotonico Fotonico Grande fantasia Dici C'è stato per i nomi Sì Sì non c'è più il Cyberman Ma rigidissimo l'ha piegato male Ne sta prendendo parecchie Beh però per se si trasforma Guarda quanti schiaffi stai a prendere Oddio Eccolo trasformato Trasformato Hai visto uno Rob Ce l'abbiamo rossa sempre Quando sta a poca vita Stai tg evolvendo Vabbè comunque male che fate lo tieni trasformato Guarda come si È carissimo Finto coraggio Oddio sei cazzato Attenzione attenzione Stai rimandando Oddio che sta a fare Stai facendo l'attacco Da Aia Eh questa brutta Eh Vabbè La battevi Eh no F Eh vabbè Sconfitto C17 si è rifiutato Sei rifiutato decisamente F Bella però Adesso c'ho zappo il gonfio Tocca a Simone Tocca a Simone È tipo un bufo bufo Prende Sei trasformato Deve lo suone Eh Vado da Recold Vai Recold Vuoi interagirci? No Mi sta abbastanza sul cazzo Anzi Poi allora c'è un altro movimento se vuoi Cioè c'è un altro movimento Allora puoi scegliere se interagire con lui o muoverti di nuovo Fai un movimento un movimento un movimento di interazione Però se mi muovo di nuovo Guarda che cazzo è quella Cos'è un robotone Quello è il robot di Pilaf È il robot di Pilaf Ma perché? Ma cioè Quindi posso scegliere se andare da Pilaf O se andare da Gohan E dopo cioè sì Se andando avanti puoi scegliere se andare poi su o giù Sì Ma allora io provo Provo a battere Recold Vai Comunque Simone devi pensare Devi pensare di essere Livio Perché se tu pensi di essere Livio Pensi Ma lì ci ha messo un combattimento o un'interazione Entra Tu pensa io sono Livio Pensa così Recoldo ti vuole picchiare Recoldo ti vuole picchiare male Ah ok Quindi l'interazione mi porta automaticamente a un fight Esatto No beh non sempre Non sempre Allora di solito Di solito la dinamica è che I personaggi buoni è più probabile che non combattono I personaggi cattivi è più probabile che combattono Sì di norma Chiaro Però Non è poi sempre detto Sì non è sempre Vabbè tanto ero in dubbio Se combatte c'è un meno Quindi comunque Si sta Bello Questa è una grande vendetta per Vegeta Sì e secondo me è uno scontro abbastanza equilibrato Anni di bullismo Che devono essere immondati Vero Su una mech No vabbè Il livello di combattimento di Recoldo Non è chiaro Perché cioè È morto in un attimo Ha preso una spadata Quindi Magari Magari è più forte del figlio Che cazzo Non sappiamo Sì 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 Potrebbe essere Girobaie Su una mech Una mech con Vegeta base Proprio guardano Questa posa scomodissima Quanta lorra Vediamo vediamo Sempre tre vite contro tre vite Anche a te Se si trasforma in scimmione Ti rimane trasformato Qua devo partire In scimmione In scimmione ti rimane calab- No Mi discosto Mi dissocio Mi dissocio Cazzo cazzo Dai e dai Orgoglio Saiyan Orgoglio Saiyan Dai con sta steppiatura Dai cazzo La ferma dovrò romperla Davvero Attenzione Bello Guarda ragazzi Che mazzi Guarda come schiva Domanda Ma se lo batto con l'interazione Che mi ha fatto scattare il combattimento Diventa mio tipo i Pokémon O niente Diventa tuo Diventa tuo Apparato Apparato l'attacco del dito Attenzione in alti Eh questa Questa è la mia Vegeta è cazzata Oddio fuochi del male Guarda che no No Gliel'ha parato Gli ha mollato letteralmente un calcio nel culo Già togassatissimo Ma ma te è cazzato Ma ma te è cazzato Che c'era Madonna Mi ha umiliato Sono caricati a bestia Eh no Ma no vabbè No Eh questo lo si è Dell'ha fermato Eh sì Eh l'ha fatto troppo tardi Eh ma non Non si fa mai per secondi la mossa Dai dai Spara qualcosa Spara qualcosa Iniscilo È come nell'anime Per quattro di ore a guardarsi Si ha fatto l'attacco Che è schivata Mi ha schivato il laserone Ma io ne fai Guarda Ehi c'è Ti sei preso Cold E vabbè ma ragazzi Non si scherza col principe E niente È il primo personaggio Di Simone Ok Recode Simo adesso Recode Sottoposto Di Di Vegeta Tra l'altro Quindi Ripichiamo Se tutto quello Che è nostro Mi piace Gli fa fare Le pulizie a casa Cioè Sì 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 Ovviamente Puli le scale Subito Ma non c'è Vabbè Non c'è Vabbè Toccarò C'è recode Comunque No E ce l'ha segnata E velo su un foglio di carta C'è recode Ma magari sposti un attimo La cosa di Simone No no Non c'è Non so per quale motivo Ci stanno gli altri Ma non c'è Ma c'era prima No no Sì sì c'è Però Vabbè Lascia fa Ho capito io Mi fidete Non so Un santino De Liccardo Così Tanto per Dai Prego Mettilo in team Allora Tocca a Rob Vai Allora Io con Zarbon Devo scegliere se fare Quattro Quattro Diciamo caselle O è di default La sua abilità Allora no no Tu due volte a partita Dici questo turno Voglio muovermi del doppio Quindi puoi fare o due Interazione o quattro Ok Allora Allora andrei da Goten A sto punto Goten super saiyan Vediamo se ho pigliabotte Anche di là Ok Uno Due Tre Quattro Ok Allora Al prossimo turno Puoi interagire Ok Rob Tocca via i personaggi Rob Eh oh Vediamo Vediamo Non mi fa lo sturnio Non mi fa Mario Sturniolo Che Mario Sturniolo a certo punto Pensava di essere Real Madrid Col Benevento E andava a sfidare Il Manchester City E poi perdeva E diceva ho perso Beh si Se hai il Benevento Ci può stare che perdi Ma è però Bisogna sempre credere I cuore delle carte Quello si Bravo Sono d'accordo Scusi Vai simo Allora io Voglio quel Great saiyaman Di Gohan Ok Voglio Mi sta sul cazzo Con Great saiyaman Eh lo so Però è Pur sempre Gohan Sì My Gohan Quando aveva La maschera C'è un Gohan Ricordatelo Qual è Doppio movimento Vabbè tocca roba E quella sotto Allora interagiamo Con il Gohan Super saiyan Vediamo che vuole Che vuole Gohan Ah Gohan No Gohan Ti vuole picchiare Gohan Ah basta Vabbè dai Vabbè Gohan Rob Però Gohan C'ha una vita in meno C'ha due vite Sì Se lo batti Diventa tu Ozi Sì sì Però però Cioè i piccoletti C'hanno vite in meno Però picchiano Forte Sono più incazzati Picchiano molto forte Sono tipici Wawa Quindi abbiamo Goten Super saiyan Contro zarbon Moddato Contro zarbon Sotto trembolone Dai Benvenuto Nenno Ciao Nenno Allora A coso Ma great saiyan E quella lì E la casella sopra O la casella sotto Perché l'hai messa a mezzo Eh ma Perché stanno sopra Stanno Sopra al pallino È una novità Ma c'è un pallino Ah Ok Ne sono tante novità Spontato di frizzera Ah bravo Vedi ogni tanto Fai delle cose intelligenti Ma com'è possibile Ogni tanto Ogni tanto Cioè tu scureggi al cervello In continuazione Però Ah ricorda che se prendi Trunks In qualche modo Puoi fare la fusione Se si Poi posso Quindi ti si libera Uno slot Per i personaggi Capito A prescindere C'è un numero limitato Di personaggi Che posso avere Trunks piccolo Eh sì Cinque Quando arrivi a cinque Solo trans piccolo però No però Quando arrivi a cinque Poi hai la possibilità Di fare un cambio Quindi se ne prendi un sesto Puoi togliere uno Dei cinque che hai Ah ok 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 ci sta ora conviene Cercare più a più roba possibile Poi ci sono anche delle interazioni Che possono scombinare la squadra Se no si mose e pese robe aperte Vallo già cerca Fai un 2 contro 1 Fai il pizza La mappa sta Vorrebbe dire Che sono destinato Se Zarbon qua Non mi regala emozioni So cazzi Dai Però ogni pizza Che dai tu Fa male Ci mancherebbe Tu e buonino E pure trasformato Il coccodrillo qua Esatto Tutto in coccodrillito Guarda Al limite della mappa Schifosi Mi piace In coccodrillito Sì Beh è così Se ci guardano Quanto è orribile Che poi c'è proprio La droga Che è la crocodile Sì 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 Esatto Vabbè ma lì Lo trovavo tutto Squagliato lento In un angolo E la morte Con i muscoli bucati Lo trovavi Madonna Azz E la pia Dai cos'è cos'è La mossa speciale Eh sì Ma no Ma si stanno guardando Guarda Questo mi ha attaccato E la base della gola Mi sfondo adesso In attenzione Sta recuperando Al piccoletto Sì ma Sto qua è pure stronzo Guarda Mi sfusi Rob Lei mi demotiva I giocatori Ma come Ma come Mi demotiva Madonna ragazzi Però almeno Era più credibile Cioè Era più credibile Questo scontro Di Togashi Che fa un nuovo capitolo Di Hunter Hunter Ragazzi Eh beh sì Ci vuole poco Però sì Assolutamente Perfetto Ok Allora Puoi muoverti Vabbè torna indietro Perché No vabbè Volevo Interagire con Gohan Tocca ancora a Rob C'è un movimento Rob Dove aver interagito Buon modo Allora Se c'è un movimento Nel frattempo Direi che vado Vado a sud Dove c'è sta lì Il tizio Magin Cristoli Non mi ricordo Allora Ok Ok Vai Simone Vai da Great Siaman Io voglio interagire Con Great Siaman Ok Allora Great Siaman Vediamo Ci avrà l'interazione Sì Che c'è là Tutti pensano Che io sia inutile Ma non è vero E te lo dimostrerò Anche perché Sei tu che mi hai cercato E non si nega mai Un aiuto Posso portare in prigione Un cattivone Della squadra avversaria E glielo toglierai Però Dovrei battermi Altrimenti Col cazzo Ma col cazzo Non l'avrebbe mai detto Non l'avrebbe mai detto Non l'avrebbe mai detto Ma in realtà Non è Ma non è Gohan È Livio Con la Con la tua Di Great Siaman Eh posso Rubare Un personaggio Della squadra avversaria Allora Se batti Great Siaman Nello scontro Puoi usare anche Recold Sì E Le Cancella È come se gli cancellassi Un personaggio Però lui non lo prende No No Puoi cancellare Un personaggio La roba Però non lo prendi lui Non prendi Great Siaman Ragazzi Proviamo a batterlo Mercenario In pratica Ti fa il lavoro Sport Esatto Lo batto Cioè Voglio combatterlo Con vegeta Ok Tutta la fatica Che ho fatto Per prendere Quel nano Dai E chi ha detto Che voglio toglierti Il nano Beh non puoi Dogliermi Zarbon Ah non posso Toglierti Lo starter Lo starter Ti rimane Fino alla fine Non lo puoi Non lo puoi cambiare Perché Vabbè Gliela virnano Dai Che te frega Vabbè Ma non è detto Può essere pure Che me batte Ma lo devi usare Ma scusa Ma questa mossa Può essere Utilizzata Cioè la devi fare Per forza subito Sì certo Per forza subito Può aspettare No 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 Se no è troppo forte Che cavolo Arrivi alla fine Ops Ti ho fatto il pesaglio Eh no no Troppo sbloccato E Great Saiyaman Gratici Quindi pensano È vero è vero È vero I personaggi ci stanno Infiniti Infiniti C'è la madonna Proprio Ma scusa Ma nel nuovo Che devono Di cacciare fuori Di Dragon Ball Che hanno messo Anche quelli di Super Dragon Ball Heroes Mission Gesù No ci sono quelli Di super Sicuramente Perché c'è cosa C'è Giran C'è Giran No perché c'era Un certo punto In Super Dragon Ball Heroes Mission La madonna Radish Super Saiyan 3 Ragazzi È il sogno Dei fan Praticamente Vabbè non lo trovo Super Saiyan 3 Molto bello Vai Ma non è dove stanno i Gohan No Niente ho vinto No no Ma forse devi prendere Gohan No no C'è Combattere contro password Personaggio Simo Ecco Non c'è Mi sa che di andare sui Gohan No c'è sicuro No ma ma sta No Livio Cosa non Livio È una trasformazione Ecco Vedi Oh mazza eh E allora Quale Gohan Ebbene Eccolo grosso Eccolo qua Eccolo Quello non sposato Ragazzi non l'ho mai usato Grezzaia Ma fidati No te lo dico Ma chi è che l'ho mai usato Se stesso vuole usare È un errore proprio di Toriyama Grezzaia Ripeto che sono puntate assolutamente godibili Sì sì incredibile Adesso erano messi due di Saiyama E' bello che poi l'hanno rifatto su super con Goden e Trunks Eh sì Non contenti Guarda Si sparano i raggetti Tipo E battaglia Queste stellari Che che è diverso E adesso sono arrivati a Gone Beast vs Ultraistinto Goku Sì No ma che adesso ci sta Quello dei cereali No Lasciate No ma già è superato Quello dei cereali E lo sai No Superatissimo C'è Black Freezer Che ha one shotato Io ero rimasto a Black Freezer Esatto che aveva Sventrato Vegeta e Goku Poi so che sono andati avanti Ah no C'è stato un arco narrativo Dimenticabile Di Trunks e Goten Eh sì Hanno preso il film L'hanno riempito di filler Con questi cazzi Saiyaman E adesso sono arrivati post film Con Gone Beast Vesso sono con Ultraistinto Era incazzato Però non ha fatto niente E poi l'altro ne ha fatto Il balletto Ha fatto la mostra Allora Adesso Ti posso condividere lo schermo Effettivamente Vabbè vabbè E' uguale E' uguale E' uguale E' più preoccupato Non sta a fare mossa E' stanno Tanto fanno Ah Boom boom E' sì Non è che Non è che Mi ha fatto niente No sì E' un po' più godibile Ma Vegeta è cattivissimo Sta sfondando Perché è il campo È il campo Il campo svantaggia Quello Che è forte Questa mappa Nappa Perderebbe Ma che città Il campo Svantaggia Quello più forte Fica una regola Quello che è più forte Dei combattimenti Ravvicinati Che ne è svantaggiato In questi casi E chi è più forte Grit Siamen e Vegeta In combattimenti Ravvicinati Ma io Grit Siamen Ho mai visto combattere Però temo Che non sia per lui Fa sti combattimenti Aerei Ma Grit Siamen E' tipo un Power Ranger Mentre Vegeta Va cazzato in bocca Nappa In questa mappa Perdi Oh basta Sto nappa Gli ha fatto l'altima Ma che è I cuoricini Cos'è Oh mio dio Che brutta Alti Ma no Ma hai fatto un bordello Ma hai grigato male Ma s'ha fatto malissimo Ma donna E' disegnerato Ma ti ha sfondato Dai PG Porco tu Dai Stai vincendo Ampia i schiaffi Così Dai 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 Chi è che tira Prima l'onda Ma questo Stai Dai 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 Ti Attenzione 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 Stai Stai Di via Stai Di via Ma il puttolito No No L'ha preso Oddio Oddio No Ma che Sfigo del Gesù Cristo Che lo faccio Sono capitato Cazzo Bella Che merda Questa Allucinante Che scammato Che scammato Che scammato Che scammato Che gothen Super saiyan Proprio Ciao In casa Sparito Per i gothen Sparito A casa gothen Sfigo del Sfigo del Dato che non c'ho Cosi Vi metto Freezer Però ricordiamoci Che Che Recold Insomma Ok Se vede più Perché Ma qual è il suo problema Ma vedi che Non è il problema Vabbè Vabbè Intanto vai Sparisco Gli metto Cooler Gli metto Cooler Va bene E A sto punto Dico Cambiano i miei Piani Ragazzi Io mi intendo Ad andare Da Darbula Però Andiamo da Goku A Nord A sto punto Ok Ok Quindi Doppio movimento E siamo da Goku Ok Passiamo turno Ci vuole interagire Passiamo Mi fa rire la faccia Di Roberto Il mezzo Di personaggio Sembra quasi Un personaggio Giocabile Allora Io A questo punto Sì Esatto Oh Simo Vai da Ciampa Che è Un'interazione Ciampa Ma lo lasci Giocare a lui Allora In questo momento Io posso andare In realtà Solo da Dal Satan Sì Eh sì No Vado da Vado da Dal Satan Che mi piace molto Come personaggio Grande Ok 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 Prostimo turno Rob Il mio obiettivo Sarà prendermi In realtà Freezer E E V Sì Allora Vediamo Goku Che ha da dire Dai Vediamo un po' Urca Vediamo se sei Veramente forte Costringimi A trasformarmi Almeno in Super Saiyan E mi unirò A te Quindi un fight Allora Tu puoi pure Perdere Però Se il personaggio Si trasforma In Super Saiyan Quello di Goku Lo prendi Vediamo dai Tanto è un fight Immagino Sì Esatto E se lo batte Se lo batte Che non si trasforma Non lo prende È una cosa Molto da Roberto Questa Simo Molto da Agenzia delle Entrate Capito Ho successo Ma fallisco Avendo successo Esatto Molto italiana Come cosa Esatto È molto da me Del tipo Hai fatto Ma poiché Non ho visto Non te lo posso Considerare buono Fallo un altro Hai pagato L'Atari Ma devi ripagarla Esattamente Senza alcun motivo Porca Eva Vediamo Vediamo Dai Tira fuori Ste spade Mi ricorda Un po' Gli stage Di Vampire Survivors Questo Sta roba Sono malato Bello Senza spiriti del tempo Eh ci sta Però dove è Seduto a bianca Senza spiriti del tempo Che è sta roba Non canonica Tutto non canonica Eh la Guarda bene Il cazzo di Sniper Ma cosa sta succedendo Ha dato una testata All'onda energetica Mi ha annichilito Praticamente Eh però sta Già Vai Vai Goku Madonna Zarbon Gli ha fatto Lo scherzone Guarda che Zarbon regge Eh Zarbon Zarbon Trasformato Fai le cose Da Zarbon Trasformato Fai paura Zarbon Trasformato E' morto Poi Stai spazio Da muscoli Terrificanti Non ho mai capito Perché Mantello e scaldamuscoli Ma che cazzo Ha tirato fuori E' vero Che c'ha Gli scaldamuscoli Madonna E poi c'hai Potara Mi ricordo Che c'era Tipo Potara A caso Che ancora Non erano Potara Però Palese Fuori da Una Lezione di Zumba Lui Sì Sì No Di quelle cose Di Pilates Che Da un Verso Stro Un sacco Di prese Sto Dizio Ma Fa un attacco Di quelli Seri E dai Che è Alta Attenzione Ma Sto Personaggio E tanta roba Ma una roba Da guido pagata Attenzione Ma che è Ma fai qualcosa Di utile Zumba Bravo Eh Volevi Eh Ritenetevi Attenzione Pensavi Oh 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 Amore Così Adesso Ma Non è Scappa C'ha Quattro No Hai pure vinto Che sfida Una Prassica Ma Che Ma preferisco Guardarmi Veramente Un film italiano Anni Trenta Ma che cazzo Ma che cazzo è Che tristezza Ha vinto Adesso Ma puoi andare a riccaio Però Eh no Non ci può andare Perché non ha Non ha Battuto La Questa Ah Ti capisci Simo È la storia Della mia vita Fare le cose fatte bene Ma Ma Bello Mi piace Sto gioco È vero Io che ero Da 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 Dal satan Sì Rob Può tornare giù Perché c'è un movimento Ah Se vuoi Vabbè Vabbè Obbligato Non è che puoi Non è che puoi scegliere Ok Vai Al satan Allora Devo per forza Interagirci O combatterci O posso andare avanti Puoi andare avanti Se vuoi Oddio Non lo so Eh Voglio freezer Però ragazzi No io vado avanti Vai 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 Vado dritto Su Vabbè Vegetta Recall the freezer Sarebbe veramente Un colpaccio È una Una famiglia Bellissima Sì Sì Proprio Disfunzionale Al massimo Ok Dai Adesso Devo passare il turno Posso Adesso Tocca Rob E poi Puoi interagirci Allora Fammi usare Le quattro Mosse Su Darbula Così faccio Uno Due Tre E clicco Darbula Allora Hai fatto tre cose Per me Puoi interagire Va bene Darbula Ci vuoi interagire con Darbula? Sì Dai Vediamo che Allora È bello Darbula Allora E così Tu vuoi diventare Il re del mondo C'è solo un essere Che può aiutarti Ma solo io So dove si trova Lottiamo Se vinci Te lo dirò Ora Il problema È che questo qua È un due contro uno Perché non è il secondo personaggio Perché non è il secondo personaggio Gliel'ha rubato Gliel'ha rubato Ma che ci sta pure Sianemba Cioè Ma che Beh Oh Ehi Il re degli inferi Eh vabbè Spiace per Rob Vabbè Magari vinci Magari vinci Ti prego di vincere Il piaggio di Pietro Baldi Sto male Ma voi state assistendo Alla mia normale giornata Di vita quotidiana Ragazzi Non avete capito Cioè Rob si sveglia E prende schiaffi Però di Ti diano a me Rob Sei il mio personaggio preferito Oh Rob Non molla Rob Credici Rob Una cosa importante Se ci sono I Due combattenti Che vi sfidano Voi alla fine del combattimento Potete scegliere Chi prendere tra i due Ok Ad arrivare Sì Quindi in questo caso Se vinci Cosa che Sarebbe un miracolo Puoi prenderti anche Janemba Se vuoi Ok Cioè solo Janemba Però non si sceglie Però Sarei molto per Janemba Eh no Janemba Scusami La vediamo 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 se ci arriviamo Alla fine Infatti Oh intanto Già Marco svegliato Proprio Eh tutta storia Ecco No L'ha fatto L'ha parato Eh il problema Che anche Janemba Darbola pure È abbastanza forte Vabbè ma Ma perché in realtà Lui non sa di essere un coccodillo Penso di essere una tigre L'uomo tigre Esatto Cazzo King de merda Vai Fai le cose Eh gli guarda tutto Ah la mia Che bravo Oh eleganto Oh gli ha fatto Un'esposione Elegante Cazzo Gli ha fatto una mossa D'anima Scusami Scusami Oddio Mi lancia pure Guarda Ah si no Se lui non prende dei personaggi Che non richiedono Una domanda Eccetera Puoi provare pure te a prenderli Sì è viceversa Insomma Ah ok Cioè tu se lui non batte Darbola Tu volendo ci puoi andare Oh gli ha fatto pressione Hai visto Che carino Guarda Madonna Madonna Guarda Cazzo Madonna Cazzo Con la tigna Guarda Guarda Mi fa morire Perché è rigida Ragazzi Si fa Guardalo Ecco Allora C'avrà la cervicale Il giorno dopo Darbola Mi ha annientato Mi ha annichilito Con un colpo di alito Era difficile Ti sei scelto Come un personaggio De merda No allora Scusami A Goku l'ho corcato Di botte E ovviamente Non me l'hanno Votuto Pure a Goten Pure a Goten E te sei arrivato E paporessattore Delle agenzie Delle entrate Cioè che cazzo Freezer Eh dai Sì Vai Io lo voglio Freezer vuole le botte Furisa Ma qual è Freezer Seconda Cioè prima trasformazione Nel dubbio Golden Freezer Allora Chi Chi utilizzi Puoi scegliere Chi mandargli contro No 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 Veggeta Veggeta Sembra Per i match Madonna Sì sì E poi se lo merita Cioè La vendetta Del principe Sono d'accordo Come si prende te Comunque Guldo E Simone Ma guarda Guldo Te lo prendi te Che è un altro Rettiliano Starebbe proprio bene Tu ti Ehm Guardo Guldo Grande Guldo Eccolo Madonna La seconda trasformazione È la prima No 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 Come seconda Era prima No no Ah non me ne ero accorto È grosso quindi Sì È un altro grosso È il cornuto È il cornuto Ok È il cornutino Ok Lo preferivo piccolo Però Guarda se lo prendi E lo trasformi All'ultima È sbroccato Oh cazzo C'è ragione Perché poi Quando ce l'hai Ripeto Se si trasforma Te lo tieni trasformato Che fai Te ne privi Dai dai Già parte incazzato È parte È Voleva È freezer nasce Incazzato In effetti Dai 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 Donna C'è la mossa col di tiro Anche lui Quella Oh 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 Quindi c'è anche la Anche la seconda trasformazione È la terza Sì 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 E anche quella 100% C'è Diventare xenomorfolo Sì è vero Sì diventa un alien Quello è fighissimo È un po' bella Dura due puntate Ma lui si recupera la vita Di schiena Due pagine Magna Quindi 18 episodi In tv Praticamente Sì Dura poco Cioè Fanno durare un botto Qualsiasi altra cosa Si si trasforma contro piccolo E poi gli fanno tutti i reggitti I reggitti Vai 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 Madonna Fatto male È lui recupera la vita Infatti Piccolo che dopo essere Dopo aver assorbito l'altro Fa No Io sono fortissimo Sono potentissimo Nessuno potrà sconfiggermi E vola via urlando E ridendo come un pazzo Sì sì Bello Che a quello Gli hanno lasciato un bambino Per mesi Ho capito Sì sì Oddio Questa è la finale Nooo Guarda che combattono proprio a bordo mappa come gli schifosi Ma è scemo Dai 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 principe Dai principe Dai principe Madonna mi sto casando Dai No Via la schiaffi Ti trasforma No 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 Si È diventato un alieno Se lo muro Attenzione Sì Ricopera la vita Battilo 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 Lo voglio Eh ma recupera la vita quando si trasforma No Non voglio che lo fa Vai Non voglio che lo fa Cattivo Guarda la testa Proprio limpida la sua testa Guardalo Sì è tutto lucido Mi piace Mi piace Madonna Guarda però la cattivega del principe Che sei sparato tu simose Ma va bene così Almeno in questo voglio esserlo Vai dai Dai che voglio freezer Dai che voglio freezer Freezer moddato Puoi capire Oddio Ma no Io lo volevo così Va bene lo stesso Va bene lo stesso Va bene lo stesso Va bene lo stesso L'azione della madonna Vai 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 Fia la schiaffi Fia la schiaffi Ti avvicinavo Taccala al muro come il calendario Dai cazzo Oddio Oddio Te prego Te prego Fallo nero Fallo nero Vabbè ci ha freezer montato No 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 Fermati Fermati Fagli una special Fagli qualcosa Ma quante volte succede Ma questo non recupera la vita Ma questo non recupera la vita Ma questo è un colacco Ma non si aggiunge alla vita così Ma che è È l'ultimo no Dai No ti prego Ti meriti la giustizia distributiva La sei meritata Ora va e guardati tutte le stagioni di Colorado No Aspetta Mi gioco la mia carta trappola Sì, puoi risfidarlo Almeno due volte posso farlo, no? Sì, lo puoi risfidare Sfrutto la prima carta, io voglio Freezer Intanto lo si è mosso No, no, lo puoi rifare Io lo voglio, rematch Giusto, giusto Che male, accettala la sconfitta No, io voglio Freezer È uno dei miei versaggi preferiti Dopo Master Roshi C'è sta lui, quindi lo voglio Lo pretendo Che versione di Freezer parte qua Allora, anche se si trasforma in game Come avversario, quando lo prendi Lo prendi sempre a questa trasformazione Poi tu lo puoi giocare tu E trasformarlo Quindi sperare in realtà che non si trasforma Perché dia sta sempre più forte Madonna, madonna, principe te prego Che scammata Che scammata, guarda L'ha scammato L'ha scammamilenoci, dai cazzo Una parte magnissimo Fagli complimenti per la vittoria Rob, fagli complimenti per la vittoria Fatti cazzi tuoi Fatti cazzi tuoi Sarei capaci di menare trance Vai, grande No, no, Rob Digli a Simone che è già suo Simone è già tuo È tuo Freezer Sei zitto Non va ad ascoltare Maggi Guardalo Come vola Ripigliate tutto quello che è nostro Freezer non mi piace Non c'ha la suplex, regà Oh, preso E' vero E' questa com'è? Fatto male, stronzo C'è un palazzo di fronte Non è bello Guarda, mi sembra Stanno a farla scontino Sono un po' confusi Li vedo Cosa sta succedendo, regà Minchia Marescià Cosa sta succedendo? E' passato dal piccoletto Guardalo Barriere architettoniche Barriere architettoniche Si, guarda, va Si menano Sacco i colpi La punta Madonna Attenzione Si vendica Tempesta mortale Oddio lo schifo Guarda che sveglissima Vendica di sto cazzo Cosa incazza? No, no Psenomorfo Sì, sì Ma hai messo male Hai messo male Hai messo male Cazzo no Dai, prendi la pizze Prendi la pizze Con la testa lunga Tutto rigido Un book in art Si stanno organizzando Che era? Dai che ce la puoi fare Dai che puoi vendicare il tuo popolo Puoi vendicare il tuo popolo Dai, freezer Carcano di botte E basta Ma che è? Questa volta muoio Ma che gli sta tirando Oddio Oddio Ma che è questa roba? L'ha pensato Ma l'ha trasformato In una mortadella Ma che è? Guarda le spalle Però guarda Non sta Guarda che povero Cioè povero Vegeta Guarda Ma l'ha schiaffato Mi interrompe Ma basta Ma che è adesso? Ora è diventato Sotto trembolone Guardalo Lo prendi? No, lo prendo Oddio Allora Se lo fa giocare Lo può fare evolvere Ah ok Quindi riparte da zero Esatto Va bene Va bene così Va bene lo stesso Tanto abbiamo visto Che basta un combattimento Che diventa Infina Cioè Si 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 trasforma sempre Matto Ok Va bene E adesso che Devo passare il turno Sì sì Dopo tre ore Va bene Aspetta che non vedo Il passaggio a destra Non c'è giusto? Tra Darbula E quell'altro Ah ok ok C'è il baby Puoi andare O torni su Oppure vai verso Baby Vegeta Però Baby Vegeta No allora ti direi A sto punto A sto punto Ragazzi andiamo su Torniamo su E andiamo Facciamo la strada A ritroso Andiamo verso Trunks Super Saiyan Ok Ok quindi qua Rob Secondo me è Livio Tu pensa di essere Livio Con Bulma Quella chi è no? Chi è quella là? Quella è Bulma È Bulma ragazzi È Bulma mezza nuda Tra l'altro Minchia tanta roba Cazzo Vabbè Il massimo ci arriviamo dopo Dai però Devo dire che sono molto Molto contento Dell'interazione Che ho fatto con Bulma Immagino Ma Bisogna immaginare Va bene Va bene Tocca Simone E adesso voglio pure Bu Perché tanto lentamente Lento e inesorabile Io mi sto avvicinando Al mio avversario E piano piano Sto facendo L'unico che avevo Me l'hai tolto Goku l'ho battuto Ma per qualche motivo Non è il mio Te ne hai già tre Cioè Tra l'altro Tutta la famiglia reale Mi manca solo Bulma Ma non è canonico Quindi non lo voglio Non lo prendiamo Allora Ovviamente Bu non è che c'ha interazioni Perché te picchi e basta Va bene Tanto io lo voglio Vuoi mettere Fiser O Tiani Vegeta O Recold Vabbè Allora Se mi gioco Freezer Rischio di perderlo Se mi muore No 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 Quello è tuo adesso Sì sì Ma Ma sai che ti dico Fino adesso Vegeta mi ha regalato Emozioni Io Io rimango sul principe Rimani fedele Rimango Inesorabile sul principe Giusto Effettivamente Sta a giocare Una buona partita Devo dire E questo vegeta Regala emozioni Ho visto a Simone Ma a Simone Perché a me no Però Madonna Non vuole bene Guardalo Sei poco Anche questo bu si può evolvere Sì Ah sì Può diventare Bootengs E Buon Bellissimo Poi c'è il sole di Arale Questo è lo stage Di Arale Bellissimo Ma perché c'è Arale Nel gioco Sì Ma dai È sbroccata Sì è sbroccatissimo Cioè Scappare da Arale C'è l'ha incontrato È canonicamente Sbroccata Sì Ma perché i personaggi meme Vincono sempre Allora A Bu è arrabbiatissimo Guarda che sputa Al vuoto Ma anche Vegeta È bello incazzato Sì sì Ma per certo Sto giro È la chiave di volta Che calcola Che l'abbiamo giocato Altre volte così E non era così forte Però è cazzato Sì sì L'ha motivato In maniera giusta È un bravo allenatore No l'ho baffato Io ho fatto proprio Guarda la caffettiera Fatto da bardo Esatto Ciao Slim Grazie Slim Ecco adesso sto a sparare Nei cieli No 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 sta massa è brutta Ti sei certo Comunque un avversario Quello ho cazzato Non l'incazzato Eh si è ignorante Niente Però Vegeta Vegeta non molla Vopo barcolla Ma non molla Che poi questo è il Vegeta Pre Namek No con Sì cos'è È il Vegeta Incazzatissimo Quello proprio Razzista Tutto Ammazza Ammazza Nappa Perché Ammazza il suo miglior amico Esatto Un pezzo di merda Lui Nappa veramente la morte più ingiusta di DRAGON Molto Per quanto S Lui che alzava di DRAGON No il Vegeta Un cacciato poi è morto Mi tocchia di 10 Beh Qui alzava di DRAGON Faceva detonare di città Nappa però Si guarda che Guarda che te lo porti a casa Con quello che c'hai Ma è il mio obiettivo Il mio obiettivo È il mio obiettivo La scipa Vai 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 Adesso andiamo Andiamo a picchiare Quel c***o di Zarbon Se non è che Sto facita continua a vincere Incredibile Ah beh Sto rosicando per Krillin Perché effettivamente Ci potevo arrivare tranquillamente Che era morto tre volte Allora Non era facile Perché effettivamente Quella di Bùa È un po Eh Sì era un po Un po strana Non tu me la ricordavo Ragazzi Sincero C'è No no Ma io sapevo che C'era quella terza Stavolta Però non ero Ero in dubbio Se era stato Se poi erano riusciti A liberarlo O meno Invece no Alla fine Lo risuscitano Oh raga A Pariggio No Attenzione Attenzione Aia Aia Ha fatto un sprint finale Cook è ancora un potere Se lo vuoi riuscire dopo Se vuoi puoi riprovarci Vai Ok Dai Andiamo verso Trunks Ok Quindi Uno Due Ma dici Che fai prima da sopra Mi è uguale Due Tre Quattro Cin Sotto C Diciassette Dai Ok Vai Simo Vai Simo Allora Io vedo che c'è una bellissima C16 Laggiù C18 Scusami Sì C'è una bellissima C18 Vorrei recarmi Verso la donzella Perché secondo me Una femmina nel party Fa bene Recarmi o leccano Rinfresca un po' Capito Allora dai Vai verso Trunks Simo Interagisco con lei Ma fortissimo Tutti credo vorrebbero Un'interazione intensa Salve Non ho voglia di spostarmi Però va bene Se mi sconfiggi In 1v1 Mi unirò a te Soltanto se sarà Strettamente necessario Quindi Aggiungici 18 Se nella sfida finale Hai un personaggio in meno Ah la tieni come Panchinara Non ho capito Allora se quando combatti Contro Rob Alla fine della partita Hai un personaggio in meno Gioca con te C18 Quindi non posso ottenerla No non si Vabbè basta che non Basta che non prendi Un personaggio in più E la Indirettamente Diciamo che la stresti ottenendo Vabbè Però la che Sta a far popolare La profumiera Regà Ma che Se vuoi possiamo Schipparla Se non la vuoi Ma la schippo No ma combattici Con Freezer Che magari si evolve Ti stanno pure Dare i suggerimenti Allora Non ci avevo ragionato Su questo aspetto Effettivamente Dai Facciamo un po' Di schiaffi Con Freezer Ma Stiamo a che fare Con una streamer Però che streamer Scusa Qualità La classica streamer Da Grambaud C'è roba Proprio per i sales Postati In questi casi Beh scusami Tra c18 Non c'è competizione Con nessuno Portiamo Rispetto Assolutamente Eh si Eh si C'ha pure Energia infinita Davvero Eh non lo so Però se è una cosa Buona Dopo una certa È solo che è un po' Goal digger Quindi Beh si Un po' Goal digger Krillin non è così Ricco Infatti Infatti È strano Vabbè Perché Vabbè Però Se Qui Gli ha salvato La vita C'è un Faccio Della pelata Sì Ma Krillin Ha rimorchiato Bellegno È un rigatto morale Grazie a te a Brissa Suga Va bene Dai pizzer Vabbè Qui vorrei entrare in Dragon Ball Camera house Ma che nel tempo è C18 Giusto Sì Secondo me Nella camera house Dopo un po' Ti rompi i coglioni Eh però Ma Ma che cosa Com'è che si chiama Quella non canonica C21 Che cazzo era La La tizia Quella mezza Tutta imbuita Sì Quella tutta imbuita C'è androide Però Sì Mi pare che era C21 C21 Sono tutti impazziti per lei Quella di Dragon Ball FighterZ Se non sbaglio Stanno Gran figa Eh è bellina È bellina Non si può dire Brutta Gran figa Bravo Rob Tu sei un intenditore L'hai visto Madonna ragazzi Vedi Improvvisamente Non si trasforma più Adesso Ma infatti Sono delusissimo Lì Lo sta indicando Usa l'indicino Che lui fa Bip Bip C21 È irreale Quanto è buona È la madonna È Cazzo Vero 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 Grand Sì Sivo cifra Che la vogliono Rendere canonica Adesso Nei fumetti Ci vediamo A Freezer E dai Dunque nessuno Come Toriyama Non è riuscito Da Rimini Wellness Cioè Nessuno Come Toriyama Riesce a creare Personaggi non canonici Più fighi Di quelli Canonici E poi Deve inserirli Canonicamente Ho scritto 518 Android E' mai uscito Un cellulare 521 Android S Ma questa forse C'era due Ma quella sta No sta In Xenoverse 2 Tipo Ah Xenoverse 2 Oh Guarda Mi stava Mi sta attaccando Tutte le fischiaffole Sto invidiendo Si trasformato Si trasformato E' nel 18 Sadica E' da un battuto Col sadismo Che vinci Mi sa che sei morto Ah quando gli spacca il braccio A Leggete No vabbè Molto fortunato Si Ah da poco Ma annientato così Fatality Mortal Kombat Vabbè però Mi sono trasformato Si Mi sono trasformato Quindi adesso c'è l'hai Che parte già da Da Alien Si da Xenomorfo Va bene Va bene Beh vediamo Trunks che vuole Dai Andiamo su Trunks Andiamo su Trunks T-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A si batte uno si riesce a lui no capito c'è il minchiottino sotto c'è il soldato di freezer sotto e poi lo scarti scusa non ho capito ah il tizio lo scagnozzo vai proviamo ad andare dallo scagnozzo mi scorca di botte vai lui può fare il movimento no 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 ha fatto ho fatto uno o due interazioni io interagisco con gothens super saiyan 3 e coso e goku super saiyan 3 di gt e goku gt super saiyan 3 ah va bene diciamo che va bene questa è un'interazione che abbiamo allora dove notare ancora che tra tutte le interazioni ancora non sono riuscito a ottenere un personaggio perché mi dicono no guarda devo andare alle posta paga le bollette mi servono nuovi stimoli non riesco più a trasformarmi in super saiyan 4 se riesci con il nostro scontro a farmi trasformare ti seguirò promesso ah ecco è la stessa cosa di devi riuscire a farlo trasformare in super saiyan 4 quindi combattimento scegli con chi affrontarlo scelgo di affrontarlo di nuovo con con freezer almeno anche tu fai la tua quest mentre lui fa la sua esatto alle brutte magari mi si trasforma freezer alla meglio mi si trasforma freezer e becco goku super saiyan 4 si vola si vola tantissimo doppia troppo tre la trasformazione ragazzi segnatevi che lì a di goku non si trasforma mai ma lo segno eh zemag segno la trasformazione che sta per arrivare ma perché è una cosa tipo super rara? ma quanto dicono loro ci sono personaggi tipo freezer che si trasformano di più di altri però pure sello è veloce a trasformarsi pure sello dove è andato? è scappato sono un po' cagato sotto ma perché lui gioca alla lontana fai gli argetti pipipi vedi eh pipipipi tecnicamente questo goku super saiyan 3 dovrebbe letteralmente deflagrare freezer con un pugno si si c'è c'è un divario di potenza devastante vabbè però pensa se fosse black freezer alien minchia vabbè black freezer alien non ha come è possibile intanto perché quella dovrebbe essere già l'ultima sua trasformazione vabbè ma se sa mai ormai le trasformazioni aggiungono a iosa ma no ma perché ma perché è tipo una gaussiana cioè tu arrivi al picco che è goku black perfect poi torni indietro fai alien cornuto base poi c'è golden freezer alieno golden freezer che mi domando adesso seriamente dove cazzo vogliamo andare a parare ora stanno a fare ultra istinto ma non lo stanno nemmeno loro cioè c'è ego vegeta c'è black freezer dove si va cioè nel senso sono ma più che altro finché c'è ci sono virus e whistle a vicino non si sente proprio la pressione è vero senti come se c'è il culo parato qualsiasi cosa succede vabbè oddio ormai freezer sembra quasi più forte di virus sì però c'è wiss capito però wiss in teoria se interagisce dovrebbe morire è vero però porta indietro il tempo c'è con freezer ha fatto già sta vedendo come si morisce in video gli sta amenando eh no ma se lo batto se lo batto non me lo prendo no non ce lo prendi no devi trasformare no però devi trasformare perché mi sa che si trasforma solo quando sta una tacca divina però c'è 5 tacche ma 4 attenzione questo è fondamentale è troppo forte l'hai ammazzato guardalo comunque è incazzatissimo questo freezer mamma mia quanto è attivo sì 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 molto incazzato eh vabbè ci provano ragazzi vediamo sto scagnozzo vediamo sto scagnozzo cosa mi dirà adesso no torna da trunks e digli che non voglio combattere stai a vedere preparati roba allora vai vai accidenti sono stato scoperto non mi uccidere se mi lasci re vivo ti condurrò istantaneamente dal potente freezer oppure ti porto in città tramite il sottopassaggio ti prego cioè devi morire qua puoi decidere se vuoi ti puoi portare in un punto della mappa in due punti o da freezer o nella città oppure lo puoi battere e si unisce a te e basta qual è la città? perché non vedo un cazzo eh no sì certo allora la città è qua guldo no è qua da 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 c20 guldo o vegeta ah ok quella in alto quindi sì però se lo batti poi ti prendi pure trunks eh però è scarso eh beh che sia scarso però volendo poi lo puoi benciare via eh lo puoi sostituire cazzo veniamo veniamo lo veniamo dai vediamo un po che succede tanto se tu così cosa può andare nel personaggio più forte del gioco perché in realtà era Ginyu che era fino dentro al corpo del truppino eh sicuro allora Zarbon ah 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 a riechi c'è qua Zarbon fa fa nudismo sulla truppa ah 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 cioè pure maestro muta ne è più forte ah c'è soccro pure Yajiro Pai credo sia più forte ma stai a vedere come mi corcherà di botte adesso ah 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 non ha nemmeno un nome cioè soldato di freezer no no soldato freezer è proprio è proprio è proprio bruttissimo però guarda è così brutto che fai il giro è so bad it's so good io vorrei magari si vuole vendicare per tutti i torti subiti da sto strumento sì per tutte le volte che è stato andato a letto senza cena ma ma ora diventa Super Saiyan 3 senza motivo di spagizione sopracciglia adesso vedi lui c'ha una vita in meno per dire ma fa che è troppo schifo ma meno male c'è una vita in meno un disgraziato c'è pure c'è pure una malattia degenerativa i ming il lippi si è vero hai ragione funzionale non hai ragione la patente stanno andavate a cazzotti alla schiena stanno andavate è notato è nato sbagliato dai fagli una suplex almeno guarda fa l'onda energetica però ma dove l'ha sparata mi pare che in realtà usava tipo la pistola io vorrei vedere la special di questo qua bella fatta ressa i nostri cioè tipo l'ondina è la special ma che bello è ma chi 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 è oddio caro ma si l'hai catturato dai che è competitivissimo povero truppino di freezer è morto male con la fisarmonica gli è andato non è morto male l'ha annichilito raga eh quindi prendi due personaggi perché prendi lui e prendi Trunks si si in carreggiata signori siamo in partita guarda che che team guarda è proprio Trunks e i suoi amici speciali questo qua parlerà come il tizio là taglierò vai c'è questa voce cazzo sambucone mulinari hai ottenuto anche Trunks sì bella però bella per magia io poi la mia prossima direzione sarà Bulma ovviamente ok mi pare giusto adesso ci si va ci si va a divertire bravo bravo bulma meglio decidiamo diglielo allora io in realtà pensavo di recarmi verso il grande mago piccolo che è un altro personaggio molto interessante ma allora aspetta questo qua in alto è è piccolo eh eh vado da piccolo ok 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 vai il grande mago piccolo si chiama il grande mago piccolo entro il padre è il padre ti ho chiesto mi chiamo da le zinne Rob Rob dai da le zinne vai verso Bulma Simone verso piccolo vai Rob interazione vai interagisci regalami un'emozione positiva te prego sei molto soddisfatto sì 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 sono qua da sola sono qua sola da mesi vieni qua e facciamo un bambino se accetti perdi un turno ed ottieni Trunks bambino ma scusi ma io ce l'ho già a Trunks ma lei vuole scopare Trunks bambino ma qui aspetta con la mia fortuna cos'è mi si depotenzia il Trunks attuale o ne ho un altro no no è un Trunks bambino però devi perdere il prossimo turno no è forte Trunks bambino però devi perdere il turno e devi perdere il turno no io te lo sconsiglio Rob poi fai dire raga qua si tratta di scopare bravo Rob ma poi tipo lo fai istantaneamente capito capito no perché ogni turno sono anni eh certo nel gioco raga ma diavolo il turno ma anche due turni rimango ma subito ma va bene così oh Rob ma con Zarbon ma con Zarbon no Zarbon e Rob si si appartano ma la trovano spanata poi ma poverina beh se non ricordo male nel manga lei non rifiutava Zarbon si ma la versione normale non la versione Danny Lazzarin vabbè spegni le luci roba che te lo dici oppure fai tipo oppure fai tipo Fry e fai scopare Trunks con Bulma per creare Trunks è molto è molto problematica calcola che ecco questo era un easter egg perché se se avessi ancora Goten avresti ottenuto Goten è vero di Aruba potevi fare la drone però Simone traditore perché la gente giovedì ma non c'è Goten Trunks bambino ma se faccio scopare il troncino che cosa ottengo una specie di alien perdi il gioco automaticamente esatto ah sì Simo quindi va da piccolo piccolo dai dai troviamo troviamo da prendere anche piccolo allora mi piace perché vi state muovendo parallelamente allora eeeh dove è dove cazzo lì eccolo zium essere pazienti è fondamentale per vincere fammi vedere che sai concentrarti rimani con me a meditare due turni e mi unirò a te ma che cazzo è sta cosa è il gioco dei cappelli c'è chi scopre e chi medita Simo ma Simo meditare è importante per la salute mentale vero vero ma mi ha detto veramente sfiga però dai va bene rimango due turni ok va bene quindi allora Rob salta turno Simo salta turno tocca Rob almeno non c'è un bambino ok quindi io adesso ho un figlio hai un figlio bravo Rob bene Rob hai un mutuo un figlio e sei pure un animontista un truppino di freezer ma quindi posso fare la fusione tra Trunks piccolo e Trunks grande super Trunks perché nel gioco non c'è viene fuori curibolato lui sotto da Goku bambino ci fa andare sì volendo Rob puoi andare da Goku bambino puoi andare dovete fare sì sì infatti o sopra da Gohan quello è Gohan del futuro quello in alto a destra eh lo so quello non è male è incazzato come un polacco quello là quindi non mi dispiacerebbe poi c'è l'oracolo in alto insomma c'è c'è tanta roba però l'oracolo che cazzo l'oracolo magari c'è un'interazione Cagliarda ma sì andiamo a nord dai tanto andiamo verso c'hai due turni che te puoi giocare ti sfrutto un quattropassi ragazzi ragazzi ha appena scopato con Bulm guarda è delicissimo quella non è la voi pensate che quella sia la chitarra ma in realtà non è la chitarra esatto esatto vai 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 non c'era più non c'era più potere sono finiti i poteri è scuola Bulma è esaurito Simone Simone salta al secondo turno e quindi tocca a Rob vabbè mettigli Bulma sotto nel team sì sì ora gli metto Bulma e dove dove vuoi andare vai da Gohan vai da Gohan interagisci con Gohan o sali su cazzo Gohan non mi dispiacerebbe averlo dai interagiamo con Gohan dai Gohan vuole solo farà botte dai non avevo dubbi contro chi lo fai menare contro Trunks del futuro bello bello ah derby bello il maestro contro l'allievo hai capito oh intanto Rob c'ha un personaggio in più hai visto zitto zitto beh cazzo sì raga ma c'ho il truppino io raga dai io c'ho il truppino abbiamo due Trunks e un truppino una famiglia di Trunks esatto esatto eccolo super saian madonna c'è il team ma qualche cazzi personaggi ci stanno qua sì sì ma è eh però un campana perché se lo piglia uno due tre va cinque se lo prende va cinque poi c'ha un altro slot per fare il cambio è il problema però è se se il problema l'interazione con Pilo che non è Pilo è Garley Junior quello ah è Garley Junior è talmente piccolo sono tutti stinari malefici brutto filler micchia Garley Junior che è immortale ma ha la mossa per battere gli immortali e la usa per farsi vinculare io vorrei vederla una una fusione con il potere tra Garley Junior e Pilo ragazzi va bellissimo ah qua c'entra un bel braccio lui ah sì e qua dipende che skin metti effettivamente ah è un po' togliati no gli fa le mosse strane e ha organizzato le mosse strane è un bello scontro che poi è l'unico che fa con le mosse con le braccia è tutta la storia dei guerrieri praticamente ma è perché è un ninja Trunks e comunque l'incipit era una bomba peccato che poi era tutto un po' a puttana cioè l'incipit di piacere però è figo poi vabbè con con coso con Black Goku eccetera hanno detto voglio farmi la mia versione di Evangelion è un casino è un casino la cosa di Black Goku ma poi è bello anche perché poi nel futuro effettivamente i personaggi muoiono quindi la puoi fare tragica non come nella timeline origine dove non muore nessuno per la fine eh infatti mi spara stile guarda ho la spazzia inizio 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 mamma mia ma lo sta umiliando ma magari una volta tanto così vince sul maestro maggi chi è avvantaggiato Trunks Trunks perché sta vincendo no perché un altro spara le cose a caso oh Trunks è una bella bestia zio ammazza c'è no ooo personaggio ooo è quell'altro che è una donna no l'altro personaggio è il terreno mi cura questo terreno mi fai favore dirmelo prima guardalo ma io se avevo un personaggio in meno non prendevo il c18 sì eh no però no hai perso un tuo c18 ah devo batterla eh sì devi battere faccia oh e anche il gol super saiyan si unisce una rimonta devastante ma si vabbè ma io ho scopato per avere le truppe Simone tu no io ho meditato allora allora adesso Simone prende piccolo sì forma finale tra l'altro eh sì e puoi muoverti ah ma Rob deve chi ah no no ok 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 è trance bambino Roberto sì sta a 5 mettiamo una bella polma ok quindi adesso Rob tu puoi ancora interagire con un altro personaggio che se lo prendi sostituisce il truppino ok ok o anche un altro se te vuoi tenere il truppino vabbè il truppino direi lo può mandare anche a fanculo mi è servito per altri scopi quindi scegli bene l'ultima interazione a fare eh 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 adesso un curioso di sapere cosa fa l'oracolo io sinceramente eh però c'è quello prima il problema lo di fa per forza e se poi lo prendi vero 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 e se poi te ne penti eh Simo Garlicchioni è un personaggio comunque di tutto aspetto e poi tu dove hai è la mia volta è la tua volta allora io pensavo di interagire con gli agirobai sono curioso di vedere che cosa mi dice ok bello agirobai allora no vabbè aspetta sono due caselle ah sì sì è vero tocca a rob vai rob domanda cilicassate ma menato ma posso tornare da lui no no puoi andare solo da quelli che non hai mai affrontato ok e allora raga la strada è abbastanza chiara purtroppo mica perché anche Goku l'ho saltato assenti io però fa una mattata so che magari potrebbe allungare un po' però vorrei andare verso super cilicassette ok bello ok ok quindi passando da Trunks mi fai Trunks poi sinistra ok vabbè puoi permetterti di fare cioè nel senso c'è già cinque personaggi no girobai però sai truppino è greve è greve girobai ormai ho imparato a muovermi in questo posto andate in malora seguimi c'è sempre una scorciatoia hai movimento più tre questo turno più un'azione sboccato girobai Daniel vai vuoi fare tre movimenti e un'azione fammi controllare vai dall'oracolo ma dall'oracolo ma a destra ci sono Bardak e C13 che sono grossi se no c'è la squadra c'è c'è Giniu e Recom sotto io sono curioso di andare dall'oracolo effettivamente ok ma lo posso saltare Carlicchioni ora lo devo fare per forza lo devi fare per forza però non è detto che devi sconfiggerlo non è detto devi prenderlo non sai che cosa succede a me incuriosisce l'oracolo allora andiamo da Bulma 1 2 3 no posso andare anche più avanti ok 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 va bene vai Rob vai a sinistra allora verso verso super 17 dai ok Simone va su Rob continua a sinistra ok Simone arriva da garlic ma non ci può interagire ok Rob altri due a sinistra vai Simone contro garlic garlic junior allora eccolo ho fatto una bella caccia per per fondare il mio impero questi due scemi mi saranno utili grazie a loro sottostaggio l'oracolo prova a passare se ci riesci è un 3 contro 2 ok devi affrontare ma chi è quello li devo affrontare scusami questi 3 è Babi di garlic e devilman che cazzo è quella è della prima stagione quando vanno da Babba madonna mia è vero ma c'è c'è giocante devi scegliere i personaggi ho un dubbio nel senso se li batto mi ritrovo tutti sti 3 personaggi no ne vi manco uno ah vabbè allora ok allora guarda mi prendo utilizzo Vegeta e Freezer Xenomorfo ma in quest'ordine Furisa ah giusto devo dargli anche l'ordine no l'ordine allora gli do Freezer Xenomorfo e poi Vegeta che direi che si sono comportati bene tutte e due beh adesso che cazzo che vuoi dire ok contro allora abbiamo garlic poi che squadra incredibile sembra quasi una sciurma di One Piece sti 3 si è vero poi c'è cosa qua Babidi Bibidi Babidi questi c'è noti due vite e David The Biruman il terzo metodo allora Babidi garlic si trasforma quindi forse c'è due vite ma poi guadagna se si trasforma tamburello di Oboro grande tamburello tamburello one shot a grilling allora è un 3d2 ma si può fare si si dipende quante vite so non sono particolarmente preoccupato eccoci Babidi non si fa Babidi fa le magine insieme come in Dragon Ball Z quello del Sega Saturn peccato guarda di notte contro i malvaggi si si decide il futuro della partita e The Biruman esce fuori solo di notte ma neanche si vede guarda che gnomo poi contro freezer capito terza trasformazione è una cosa così sbagliata è così sbagliato tutto questo eh ma non ti riesce a tec ah no lo vio vio guarda 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 come ti dai calcettini che carino che è arrivato un decimo di vita eh però questo si trasforma questo si trasforma dopo diventa grosso picchiamo il fabbro eh sì sì è un garlico si trasforma no viga il show ha lasciato va 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 vai frisa vai 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 frizzare dai frisa oh oh guarda guarda scossa sei baffato sei baffato non so è troppo piccolo troppo piccolo impossibile da colpire oh è troppo lontano ah vabbè meglio ha risposto la sta accorcando di botte oh bellissima un dannetto malefico eh i raggetti guarda quanto è cattivo quello ingegno e gli ha fatto un pozzato mazzato sto cazzo di aglione guardalo ahia l'ha sfondato c'è la casetta lì l'ha non bus ok un bus così a caso raggiocchio guarda là raggiocchio delle tenebre le spalle bastanti che combattono la più veloce dell'aggetto che gli ha lanciato grande carlo questo naziale dai cazzo un anno malefico prende bucato è rimasto così a faccia in giù ecco guardalo guardalo il mago una bula il mago di monza vedi ti mira con la sfera lui vabbè ma si trasforma più frizza ma porco 2 ma 18 volte si è trasformato non si sente minacciato non si sente minacciato è vero è vero forse è per quello guarda 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 con le vinda eh l'ha preso guarda guarda alta velocità guarda beh 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 ma non li vedi non li vedi quanti non davi oggi eh lo riparichi questo che fa questo è un'altra cosa questo non fa un cazzo no vabbidi no ti buca co vabbidi po' ciuccia eh vabbidi ti fa bula vabbola guardalo ah che caccia fuori meridizie ah jacon oddio no c'ha il minion si c'ha il minion cazzo meno questo oh fa male dai frizza trasformate il cazzo quello mi dai fai glielo vede fai glielo vede ecco eccolo ecco la madonna grande è tutto in frizzerito anche lui guarda la testa è normale però c'è la supermossa e gliela rifà jacon il prossimo non sai che l'ha chioppa l'ha schioppato no forse si eh ma cazzo qua no eh invece si no no ha fatto male non è un ko ma è un ko no è un ko però però ce l'hai ce l'hai trasformata adesso adesso ce l'ha trasformata mica vegeta subito in casa la vendete la vendete la vendete ma è il corpo pui pui oh subito l'ha rispedito via dopo l'ha spento guardalo si scherza col principe era l'or perché pui pui va contro vegeta quando vanno da attenzione ma c'è due video leggendario non ha vita in meno debilumane contro vegeta brutto chi è più cattivo dice che c'è una super mossa che se la fa mori subito se sei cattivo eh vegeta è cattivo vegeta ma guarda ma poi non è buono se stai contro uno vestito da stronzo così ci credo di cattivo guarda però una caccia al tridente è scomodissima poi beh sì sai che caldo là dentro è stata un po' di forco diretti che esatto da un po' di faccia dai cartone ma bene lo insegue pure guarda un po' di due guarda guarda destra e sinistra destra e sinistra se menano cazzo da fare oia che palle che cazzo sta facendo lo sta bucherellando l'arrivo a forchettone cazzo ti ha organizzato una rivolta proprio dei francesi una donna cazzo è pericoloso eh sì ha un vantaggio ma non è definitivo oddio c'all'alti oddio c'all'alti cosa riuscirà a fare questa mossa questa non la fa mai questa è impossibile da fare ma basta dai ci crede ci riprova ci riprova oddio oddio ma non è del culo no però non ha fatto quella però gli ha fatto tanto male però gli ha fatto male oddio sta in vantaggio non ci credo oddio sta di nuovo in alti devilman fermate devilman ma che sta succedendo ma pericolosissimo oh ma che è sta cosa oh ma che è sta cosa oh ma che è sta cosa oh ma l'ha grattato l'ha grattato fermate devilman oddio ha vinto devilman fortissimo niente ma ti ha sfondato il culo volendo poi lo puoi risfidare è a prossimo turno se vuoi puoi riprovarci beh ti conviene c'hai i freezer che è in parte all'inizio più forte allora che cioè io adesso quindi non posso proseguire perché ho preso schiaffi no devi riuscire a sconfiggere quindi se vuoi dopo puoi usare il tuo il tuo bonus diciamo e vabbè rob vada super c17 super c17 e ci interagisco e ci bicchi e ci bicchi e ci bicchi e ci bicchi e contro chi chi scende beh usiamo usiamo nuovamente trunks che è anche un po' una sfida così un po' romantica un po' romanza esatto allora trunks domanda questo trunks non si evolve tipo in versione gonfiata no è quello è quello più di prima è quello di capelli lunghi quello con ancora la giacchetta perché questo è quello del futuro quell'altro invece è quello che torna vabbè è sempre quello del futuro se ti prendi lui è un bel colpo lui è forte lui è forte eh vediamo secondo me questo fa male vediamo eh sì però chi non rischia non vince eh sì tanto alla fine io c'ho il truppino che cazzo non frega a me grande truppino regalaci emozioni anche se quello di David Man non me l'aspettavo e c'è una donna David Man spacca i culi pericolosissimo lì col forchettone tutto fiero ma poi lanciare l'energetico come fa lanciare l'energetico che David Man vabbè non fai domani da me i raggetti sapiamo già già li lanciavano i raggetti ah ma questo mi sponda al culo stai guarda guarda quanto cazzo mi sta menando oh ah però tu gli diri le spadate sì vabbè questo qua è ignoratissimo tutto potenziato da parte che è alto tipo 3 metri e metri ovvio oh cattroia qua va sfondato dio bono ah beh ma ricordate di Devilman tutto può succedere esatto basta crederci esatto sì però non si muove manco fa le mossa cammina va avanti indietro no mi ha fatto un cazzo la tarata la cucciata può essere fai cose fai cose da tranks fai quella faceva male mi sa anche se faceva male avrebbe sderenato proprio tempo zero eh dai dai c'è sta criega è lotta lotta eh ma il letto ho carichero eh però l'altro pure eh l'altro non carichero eh esatto lo furbo gli va vicino ah vincente oh wow attacco bruciante oh ma la parruccia attenzione non ricaricare in faccia però oh bruciante ho capito che funziona lo prende oh mio no madonna la ripresa ragazzi no cazzottino sotto l'ascella esatto l'abbia alzato praticamente zazza quindi questa spagatina piano piano spazza forza di spadate rob eh sì ma vedi che però poi se non ti rende anche cazzotto ti fa tanto male cazzottino questo oddio oddio no no vabbè mi ha fatto la nostra invertita no 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 su invertito strano eh che cazzo di poco davvero eh ma scammato mi ha scammato alla fine peccato peccato Simone Simone è il momento della decisione eh io ci riprovo con però questa volta la squadra è invertita quindi Vegeta e Frieza e poi Frieza ok prima Vegeta tra l'altro move up parte trasformata e si parte bene eh sì Vegeta invece non è semmai trasformato in scena esatto esatto no 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 è vero l'altro fin miato altro che non gli è mai risale dalla scimmia esatto bello mister satan è bellissimo e nelle altre le altre volte c'era mister satan allora poi abbiamo garlic junior allora garlic eccolo fiero poi oh piccolo lui madonna quanto è piccolo sì è l'incubo degli italiani eccolo qua vediamo che succede va l'esercito dei nani vi sta venendo a prendere vero eh ma garlic ha detto che stava costruendo il suo impero ma voi che ne sapete sempre di notte vedi perché il devilman di notte prende più potere in teoria la cosa garlic si trasforma lì col pianeta luna però che si potenzia proprio nano però le dà le pizza ma i veneti picchiano sembra Yoda la donna raga ho massacrato questo faggio di rotare o lui c'è noto volta trovia ma è cazzato fermatelo ma veramente ma è cazzato ragazzi oddio e vg per i coltri si è un po demoralizzato c'ha la rabbia proprio un corpo oddio forse questa volta per la prima volta oh alleluia ce l'abbiamo fatta l'ha preso madonna bene un signor 5 guarda quanto è veloce è scaldro lì garlic si 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 è ripreso si è ripreso si serviva un po per calvurare che cosa eh magia è calcola le vite magia si era veramente colpo è finita è finita è finita troppo tardi mancano comunque gallecchino rimane pericolosissimo era un pericolo vivente stucco è liscio come sta a fare di vegeta comunque è un po' malissimo oddio che è fatto c'è potenziale ma non so chi si è messo davanti come un coglione oh si cambia studi oddio ha fatto il cambio fa entrare il capitano il capitano ma siamo fa ma non è contro le regole se il computer gli gira bene lo fa lo puoi fare lo puoi fare anche tu cioè si tecnicamente si oddio sei maxato il dei due due maxati cannone garlic finale l'ennesimo fallimento si che triste questo mossa adesso tocca al forcone ma è solo in forca sul cazzo se il forca non lo racconta ti slabbra ti slabbra diventa proprio ecco lì è passata è passata dai invece eccolo è troppo lontano no vabbè ma che che mossa d'accoglio oddio è demoniato oddio forca ragazzi non ho parole e mo vediamo se se l'imperatore dell'universo riesce a fare qualcosa di far fuori tutti e tre lo deve far fare subito se no non c'è non c'è chance proprio anche perché carichi non è morto cioè c'è ancora recupera pure un po' di vita guarda guarda come gli blocca i movimenti guarda studio ma che cazzo non gli da tregua non gli da tregua guarda è mortissimo ma è terrificante senza pietà alcuna ma io non gioco più guardalo mi ha levato due tanti ottio io non c'è il formato ma raga liscio proprio continua continua a incalzare non è mai stato colpito ma non è vero non lo puoi fermare ma questa non è di te ma donna ingiocabile e maggi segna guardalo guardalo attacco bifortuno ma non è vero ma segnalate questo canale ma non è vera ma la caglia cauricati di botte afforconate in bocca ma non vale non conta pizzo da lontano ma peggio di un video su roten sta cosa e si vuole ti puoi muovere no ti ritorni indietro dai non è che può fare tanto non è che posso fare niente cioè gore non c'è più ma io direi che è tempo di scontrarci così vinci dai ma non posso vincere Rob prova a chiudere ma puoi chiudere ma più che altro sai cos'è è chiudo Mattia mi devo pure svegliare presto allora un finale canonico voglio dare cerchiamo di avvicinarci vorrei provare a prendere c17 allora Rob ti avvicino Rob va verso Simone quindi allora io mi avvicino uno e due aspetta no io volevo avvicinare e prendere coso l'assassino il killer ah ti vai vai così così giusto perché ci va ok Simone io mi avvio verso c17 se riesco a prenderlo prima ok Rob eh beh no allora devo intercettare Simone non gli posso lasciare c17 astuto astuto quindi andiamo qui per intercettarlo ok anche perché io Simone io nel team c'ho truppino e bull ma non vorrei no vabbè c'ho tracx picco allora Simo adesso è qua eh la scelta è Ardo lui dov'è adesso è lui è lì è davanti a te è di fianco a toi esatto ah se tu fai due in avanti lui può toccarti allora io io faccio il colpaccio scendo e vado verso Goku ok verso Goku uno e due vado a Bulma ah ok ok allora se tu fai verso Goku è roba piatto vai vai dai vai 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 con lui ok ciao vai vai ciao vai vai allora versione base pure manco quello moddato capito odio queste cose ma ok se vinci tu mi unirò all'avversario se vinco io mi unirò a te azza mi vuoi eh allora fammi vincere ok va bene ma qua devi scegliere bene ah è un genio c'è il truppino perché se glielo dai gli levi lo slot no vabbè però lui poi può sostituire vabbè però gli cioè devi scegliere chi levare però no ce ne ha quattro ah no è vero è vero ne ha quattro manda il truppino e fallo perdere esatto combatto io con il truppino se se perdo lo sostituisco con tai vai 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 ok allora truppino di freezer ma che cazzo è ma che cazzo di di timeline è questa regà tra i freezer contro guardalo piero che cazzo di combattimento e io ce l'avrei portato tau vai vai alla mecca cazzo di combattimento ahahah poi quello normale ma anche quello moddato capito guardalo fa spogliatoio tau vai vai no si 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 sa voglia oh tau vai vai è l'unico personaggio in dragon ball che ha ucciso qualcuno con la lingua si è vero attenzione questo è il più bello lo scontro più bello della serata si c'è la la mossa dove gli lancia il tronco sulla schiena ma certo vabbè ovvio sta a vedere come è guardalo il colpo della gru assassina è schivato eh giustamente aveva paura guarda il trucchino di freezer comunque ne sa oh dodompa oh madonna dodompa miglior mossa di dragon ball secondo me cioè ma non tanto per la mossa quanto per tu che puoi urlare dodompa giusto cazzo carica veloce non l'ho mai visto le skill di dodompa è un palese è un palese dimensica al pentito ma poi si chiamatissimo tipo tipo come penavano alle elementari no così si 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 manate questo onda energia odompa odompa buca le onde guardalo il truppino è proprio brutto eh ma è proprio uno sbaglio ragazzi ma come cosa ti è passato in mente a frise con adattato le truppe fammi capire ma secondo me non gestisce lui la cosa e vince tau bye bye perfetto truppino vaffanculo io voglio tau bye bye basta così è uno scontro molto interessante però devo provare a prendermi almeno un quinto personaggio sennò non ho grandi speranze ma miari in due ma non lo so perché tu c'hai vabbè aspetta hai perso contro Davidman quindi vabbè dai vado Goku bambino puoi fare vado da Goku bambino e che dice Goku? allora Goku bambino Goku Goku bambino ehi stai attento ho appena scoperto una cosa terribile potrei trasformarmi durante questa notte in un enorme scimmione devi aiutarmi lottiamo e non farmi vedere la luna quindi lo prendi se non si trasforma se non si trasforma va bene allora io combatto con Vegeta ok poi torni indietro nel tempo per rovinare la vita a un bambino praticamente si si è come non so andare indietro nel tempo e uccidere Hitler bambino esatto comunque cosa è che se mantieni Goku piccolo possiamo fare lo scontro contro Tao Bye Bye cioè rimane proprio nella lore è interessante e poi se riesco a prenderlo rischio di avere due personaggi che si possono trasformare in scimmioni è vero è vero è vero c'hai il monkey team monkey team monkey team ma anche arambe arambe donkey gong allora non c'è la serie se non si non metti uno stage di notte non si trasforma mai ma non è vero non credo ma no perché la crea luna lui la luna beh no quello era aspetta no è vero e allora toccato cari fa aspetta ah deve per forza le notte ah non lo sapevo non lo sapevo vabbè ti metti ci vuole l'onda blues c'è il rischio che me si trasformano tutte e due eh sì sì minchia diventa la guerra tra canone non posso mamma mia non posso dirlo quindi uno stage di notte va bene vai vai c'è la luna è anche abbastanza visibile meravigliosa infatti è fatto bene hanno pensato a un sacco di cose hanno pensato a tutto ecco maggi qua al campo di gioco influenza effettivamente no pure con un'acqua influenza non con trance e gohan anzi pure con zarbon perché non mi ricordo che c'era zarbon ma c'era la mossa per aria è col cazzo che ti pietri è la suplex statico no no perché se sotto non c'è il terreno lui far suplex non gli togli punti perché c'è il terreno quindi è finesse se vegeta si fosse trasformato non prendeva gli impediti di devilman è vero oddio con energetica la presa di striscio boh 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 quello lo alza gli dai pugni in faccia capito pugni in faccia rovinato ma è una persona terribile che c'era eh comunque vincita non essere spreggevole avrebbe comunque perso contro il got devilman si è vero e devi meno imbattibile devilman sei l'unico robot che è paiguan si sarebbe uno scontro epico paiguan ma buona ma buona oh gliela gli spiriti indietro è rinforzata proprio palla matta attenzione ah calcolate che nel competitivo baby goku è tipo p non so perché ancora con sta mossa ve gira niente non la prendi mai smettila oddio non è gelo proprio violenza contro i bambini un po' potrebbe iniziare a trasformare ma c'è una tacca potenza massima dai vegeta dovrebbe poter sganciare qualche bomba seria invece si fa menare come uno sto visto che è mossa incredibile da quanta che non la fa per questa eh sì eh volano i b eh no no oddio vedi un finto coraggio niente questo finto coraggio vabbè ma è un po' no cioè lui lo prende se non si trasforma ah se non si trasforma mi può battere mi può battere goku attenzione ma anche se ti batte basta non si trasforma attenzione oddio lo va prende oddio si trasforma no si è blussato oddio non c'è solo goku non credo oh eh dai questo è comunque un power up insomma qua si dipende contro il combattito ciò che gli è servita la luna l'assere fatta lui la luna comune non gli piaceva quella della terra c'è poi un'attacca in più di sì eh no sono entrambi a secco con la vita boom oh ok ok l'ha preso l'hai scardinato l'hai praticamente si è trasformato quello giusto esatto mamma mia bene ragazzi le squadre sanno fatte è tempo de menaste combattiamo su bulma è tempo de menaste è il campo da gioco bulma esatto sulle colline sulle colline di bulma allora dai allora scrivetevi da qualche parte non lo so la formazione esatto l'ordine perché è importante chi va contro chi all'inizio sì vabbè ma possiamo dirla a voce sì sì non so se basta che vi fidate di voi sì se vi fidate perché poi dicono no io ho scelto dopo io ho scelto prima lui l'ha scelto in base a quello che ho scelto io a me interessa solo che ci sia Tao Bye Bye contro Goku piccolo però questa è incoerenza di l'or partiamo subito così allora vai esatto allora Goku bambino contro Tao Bye Bye ok allora Goku bambino vabbè poi 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 metti Tao poi vai sotto no vabbè intanto cioè dimmi l'ordine tuo perché non è uno contro uno cosa non puoi fare vado prima io non ho devi farli prima tutti uno poi tutti l'altro ok allora io poi ti ti piazzo piccolo ok piccolo che non l'ho mai provato eh guarda è piccolo eh mina mina poi sono piccolo ma colpisco duro poi ti piazzo Red Cold Red Cold è poco sfruttato non ci crede molto entra dalla panchina vabbè ma ho capito ma c'è un'età eh mica puoi farlo giocare tutte le partite cioè è tipo di bala sì esatto poi guarda poi ti piazzo Vegeta che adesso ce l'ho trasformato no sì e poi Freezer Furifurisa il pezzo da 90 per ultimo eccolo quello incazzato ok mi si deve ancora trasformare ancora una trasformazione vai Rob allora io ti metto quindi tau bye bye tau bye bye eccolo qua guardalo contentissimo poi ti metto Gohan del futuro ok allora Gohan del futuro eccolo lo vuoi con un braccio senza il braccio con il braccio con il braccio ok poi ti metto Trunks del futuro perché c'è King Cold giusto allora Trunks eccolo qua ok poi mettiamo Trunks piccolo contro il padre trasformato e ricordiamo che il padre sei tu esatto sei Vegeta e poi alla fine Zarbon modificato contro Freezer moddato è giusto è giusto cerca di prendere il posto del padrone capito c'è proprio bene ok sappiate che avete nelle vostre mani tutti i punti canale della gente che ha bettato che la sfida abbia inizio è una sfida potenzialmente canon questa ragazzi devo dire che c'è tanti personaggi che è giusto che si scontrino quindi ma poi i team sono equilibrati pure secondo me ci sono state volte in cui c'era uno squilibrio proprio drammatico invece questa volta molto equilibrati attenzione nella città allora ti vince domani pagata bere domani ma come domani cosa è sabato domani vabbè la prossima volta che si vive anzi chi perde pagata bere hai visto perché Goku non sa volare quindi mentre si carica scende per terra si inizia ragazzi il primo colpo lo dà ma attacca per primo oh e la riprende subito no la mossa è terrificante un po' la devil ma è col forchettone ma è devil ma è un capitolo o schifo attenzione combattono in un albero bella sta mappa comunque questa è la cosa di capsule corte mi pare oh l'ha preso con l'energia di capa sei vantaggio Goku mentre gli correva in faccia mi fagli sgambi dallo come picchia il piccoletto non d'ompa d'ompa in faccia stammatissima però poi hai capito che funziona questa mossa esatto d'ompa lo tutto Tao sembra che la cpu ragioni bene con Tao Pai Pai che li fa da vicino i colpi oddio oddio l'alti attenzione arriva la colonna no se ne è presa in faccia oh piano finale supremo no l'ha parato niente niente colonna l'ha parato ne ha rotto la guardia guardalo ma mia lungia super close pericolosissimo rimane in piedi chi arriva adesso è piccolo vabbè intanto lui la sua sfida la vid dodompalo ma è pericolosissimo il personaggio più forte dopo tempo se ne va attenzione se ne va arriva il figlio a caso ma non è da tutto ma ma ha sfondato ma no ma scusi ha preso lui le botte che si doveva ma che è scemo è un po' scemo se ne è presi genio tattico dopo i pai minchia è proprio l'artificio del male che stai facendo piccolo ma piccolo non se la senti picchiare un bambino ma come no ma se la di botte go mi tol'allenava ma smatto ma questo tranks ma è inutile sto tranks ma scusi ma è la scammata pensa poteva avere gotex che ho più capito e invece il simone me l'ha tolto oddio oh bella che l'iscio maiello ma manda piccolo coraggio ancora questa mossa sei inutile sei tranks scusi eh bomba di luce è proprio carica sempre ma è quanto spam a sto mio metodo ma è inutile quanto pagare la tappa bravo ma cambia tranks con tranks è una tattica incredibile il team ma è offensiva sta cosa ma cazzo ma cazzo ma cazzo cosa cazzo è appena successo quei t-bug ma gli fa le mosse gli fa le cose strane guarda che l'isci questo è uno scuola è piccolo maxato quindi è incazzato boom appogliana è in faccia mi ha presa ma guarda che stanno ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda è la vendetta no invece niente lo schifo è piccolo è piccolo fire sbagliata non usarlo prima ma si ricarica anche un botto velocemente piccolo perché questa qua è la versione finale quella che ha assorbito tutti i familiari parenti ah qua la sta distruggendo ma è spammone qui si spammone ha attirato 8 bombe di luce ha tirato guarda che è successo guarda arriva a tre bomba di luce e deve sta un po' lontano beh comunque dai abbastanza faccia tipo è piccolo te l'ha te l'ha un po' ripresa l'anima dietro ma lo liscia liscia attenzione ma cancro sacco lisciato grave che non c'era goguette che regge la gente ma troppo distante cazzo sto tranquillo sta a fare cappellate brutte non è un progetto si faremo tante oddio bomba è troppo goloso però ha combattuto con un'ora eccolo non l'hai mai non l'hai mai utilizzato lo è cazzato super panchinaro fino adesso chi torna torna altro transino transino guarda guarda papà faccio che doveva fare nel futuro capito non è più chiare me stesso del futuro esatto guarda fa malissimo guardiamo il figlio di zarbon è comunque ricordiamo è vero sì sì questo canone è un po' strano madre spanata cioè infatti vedi c'ha i capelli colorati tipo 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 zarbon poi vengono vicino infatti se cazzo si allarga anche lui esatto bravo vedi quando diventa muscoloso vengia dice io non l'ho fatto per scelta non è vero perché non hai vengenizzato però sei un coglione a farmi prendere quella distanza mamma pericoloso pericoloso su trans può regalare le emozioni quelle sbagliate lo prende buona ragazzi era secondo me a lì picchia sta picchia parecchio eh sto trans cazzo prima sembrava si era l'incoglionito poco fa comunque che è stato sostituito e si è preso un po' ma cioè ha capito ma lo corca lo corca brava eh no questo lo scende attenzione è un punto vita non è finita picchia oddio non vuole crepare oddio ma chi è che no no va bene ma di scasso sta lì simone disperato attenzione è un 3 a 1 è arrivato scimmione esagerato eh vabbè la disinternazionata è lo scimmione che ha 4 vite attenzione l'originale zarbon gonfio contro la due mostri si stanno combattendo sono i due starter contro scimmia si si è proprio Godzilla contro King Kong boh comunque si può c'ha 4 vite adesso ti ha cartocciato la faccia eh si c'ha 4 vite anche se Rob sta in vantaggio dice c'è 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 un prestaggio in più Rob da 8 poi vai c'ho però con le vite non sta in montaggio c'è vegeta è un tank praticamente non si mostri ma vediamo vediamo simone con le vini ancora secondo me ancora è leggermente in vantaggio con le battute ragazzi è un effetto un effetto da bo studia l'avversario attenzione i colpi rapidi del oddio lo cimina vinto una gara di colpi dalle eleganto 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 madonna ecco diciamo lo scimbione non pecca di un brilla di intelligenza tutto lì schiacciami adesso freezer può recuperarla ebbene effetti freezer è mondato secondo me ce la puoi fare ma questa è una sfida per interessanti state più o meno pari adesso sono stati pari le vite vanna maggis erete il cielo del malagurio godi di oscolt i passaggi stavano con le vite è volato in cielo zarbond Staci che nell'ontage fa bene zarbon cioè si chiudi troppo e invece no guarda io sotto guarda quello che era lo streggio Zabon Scontri più lento si è veramente lento schiaccia la testa da un cazzotto in faccia e via Maggi è l'analista si si attenzione se ne va Non è una scelta del cazzo Incazzato controvece la cpu veramente ha fatto ottime scelte Pericolosissima E comunque gli altri personaggi hanno meno vita Si lamenta delle delle i adesso c'è questa è un ieri 15 anni fa guarda come spacca Però sto vedendo un tank e non scende manco per il cazzo Guarda che sforzo ci vuole per buttarlo giù Guarda 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 che non si fa colpire è astuto No no è proprio un bastardo Guarda guarda che roba Non ci sta leggera Un colpo di pallone sulla nuca Ma leggera non perde non perde vita ragazzi Eh si picchia confatto Gli rompe la guardia E Maggi dice che gli scimmioni sono scazzi o non capisco No gli scimmioni sono scazzi non li direi mai Ma cosa sono scazzi ma non è vero Gli direi mai Dì ma qua gli devi fare le kamehameha Gli ha fatto la cosa massimo tenso Oh Dio Un motivo per cui scimmie sono scazzi Ecco l'hai visto Ecco d'acqua Eh ma è tosta Perché dicono solo 1 3 contro 1 Ma quell'1 È l'imperatore galattico È l'imperatore galattico Vediamo vediamo se ci regala emozione Anche perché Cioè Cazzo ciotto bye bye contro freezer Guarda 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 Stavolta muoio? No Comunque è tradotto male valese Questa volta muoio non è una mossa Non c'ha senso Boh Guarda guarda che lo piaccolato È freezer è un personaggio Questa volta muoio? No E non è speciale Cazzo Bucato L'ha fatta solo una volta Sì Freezer si carica velocissimo Sì sì Vabbè è forte Oh guarda continua a cambiarsi Ma cosa è successo? No ma come? Falso coraggio In realtà si sta cagando sotto Oddio Prova a evocare il grande La grande colonna Ma cosa ne ha fatto? Ma no Distruggi il pianeta Oddio Brutta storia Vai scappa No il muretto Il muretto salva il pianeta Il muretto salva il pianeta Il muretto salva il pianeta Odonpa Oddio Odonpa regà è terrificato Ma questo personaggio regà Mi sta facendo il muretto Mi sta facendo il muretto Ma no no Non ci credo Ma che cos'è sta roba Non ci credo regà Oddio si sa scomma Eh ma non recupero la vita Oddio si sa scomma Deve ricorrere al doping addirittura Io voglio che mi fai fuori No non ci credo Mi hai battuto Ma è vergoglioso Ma è vergoglioso Pazzo È ferito È ferito attenzione È scherzo ho capito Ma adesso mi fai un dodonpa E sono finito io Guarda psicocinesi Ah vabbè regà Ma che Ma che Guarda tira Tira fuori pure una spada Ma che Ma che Ma dove l'ha tirata fuori la spada Guarda 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 Se ti troppo volo Se ti troppo volo Il terrore Guarda la paura reverenziale Di Freezer Guarda Hai vinto Ho decisivo Lo scontro Ho toccato Vabbè Hai comunque vinto Eh beh Questa è dura Non lo so Non lo so Questa è pericoloso Questa è pericoloso Eh vabbè Eh vabbè Io con soffio proprio Ma guarda che guarda un coglione eh Sì ma aspetta Guarda che un coglione Però ce n'è pure un altro Oddio di nuovo Oddio No vabbè 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 regà questo però Questo Ciao Bye Bye è scoperta dell'anno Sì sì Ciao Bye Bye è Miglior giovane Miglior giovane promessa Eh sì Miglior giovane promessa Zalbon si è sacrificato in una lentezza devastante contro Vencetta Scimmione Per regalarci questo scontro Eh sì sì Bravo Rob Bravo Rob Bravo Rob Complimenti 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 Simone ti devo offrire da bere domani sera È stato divertente ragazzi Eh sì Bravo Bravi regà bravi anche perché ci avete dato uno scontro equilibrato Merito a voi Bello Totalmente in svantaggio ma Io ho vinto due volte perché mi son trombato Bulma ragazzi Sì Quella è stata la vera vittoria Però Simone ha trovato la via dello zen Ha meditato con il piccolo Ad essere pronta a qualsiasi cosa Che bugio del culo Ragazzi grazie mille è stato divertente Grazie a voi Grazie a voi per essere stati qua Anche per l'orario Buon lavoro Buone case Grazie ragazzi Grazie mille Un saluto a voi a tutta la chat Grazie ancora Bellissime idee ragazzi Buonanotte Buonanotte ragazzi Ciao ragazzi Ci vediamo lunedì Buonanotte Fate i bravi Ciao ciao Buonanotte Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.